ciao a tutti facciamo delle prove tecniche un attimo se funziona tutto ciao a tutti appunto in questa live di la filosofia tenesvegli ci sono già due persone in diretta aspettiamo due secondi e poi inizio è una mia lunga assenza appunto ok ottimo funziona tutto ditemi se si sente troppo alto datemi dei feedback se si sente troppo male insomma mi aggiusterò allora su questo canale sono un po' inattivo come avete notato e il motivo è stato proprio la tesi quindi l'argomento di cui voglio parlare oggi ovviamente se avete domande fatemele pure anzi vorrei che fosse una live in cui c'è una sorta di non necessariamente un dialogo ma comunque mi fate delle domande e io vi rispondo proprio perché mi interessa avere dei feedback e appunto delle domande di chiarificazione così che io mi sia costretta a spiegare quello che voglio esporvi oggi proprio perché è venerdì quindi tra pochi giorni esporrò la mia tesi nella mia sessione di laurea e mi faceva piacere appunto condividere con voi avere qualche feedback appunto e rispondere a qualche ipotetica domanda mi scuso con tutti i cultori dell'italiano e degli odiatori degli anglicismi ma purtroppo io ho scritto la mia tesi in inglese e quindi oggi mi sentirete usare molti inglesismi anglicismi perché perché gioco forza o i concetti sono non intraducibili ma magari non c'è il concetto in italiano non l'ho mai letto non so come pronunciarlo non so la parola esatta oppure semplicemente perché la parola in Italia non fa schifo per dire information flow chiamarlo flusso informazionale piuttosto mi ammazzo quindi mi perdoneranno i cultori dell'italiano e gli odiatori degli anglicismi ma oggi userò molti anglicismi e magari la prima volta che lo uso però la definizione in italiano in modo che voi possiate seguire meglio quello che sto dicendo ma sarò costretto ad utilizzarli ora la teoria della mente estesa la mia tesi che qui ho una brutta diciamo così si chiama limits and possibilities of the extension of cognition perché cognition e non mente ecco qui un altro importante elemento nel titolo della live si chiama teoria della mente estesa però bisogna distinguere innanzitutto tra due teorie la teoria della mente estesa e la teoria della cognizione estesa la teoria della mente estesa riguarda stati mentali estesi in particolare i ricordi i ricordi e le credenze i ricordi quindi di vengono definiti appunto i ricordi semantici e le credenze quindi le credenze disposizionali dopo andremo ad analizzare che cosa significa mentre i processi cognitivi riguardano invece quei processi appunto che realizzano quei ricordi e quelle credenze e gli stati mentali in generale quindi sono due teorie distinte io ovviamente si intrecciano però uno può sostenere l'una senza sostenere per forza l'altra o in modi diversi quindi io nella mia tesi poi alla fine mi sono concentrato più sulla cognizione estesa che sulla mente estesa perché la mente estesa è una teoria molto più problematica e difficile da sopportare ora voglio iniziare appunto con alcune citazioni che ho messo nell'esergo della tesi le ho messe in inglese ma le tradurrò in italiano per voi la prima viene da Spinoza nella seconda parte dell'etica la settima definizione in cui Spinoza dice by particular things quindi per cose particolari io intendo cose finite che hanno un'esistenza condizionata ma se diverse cose concorrono alla stessa azione in modo da essere simultaneamente tutte l'effetto di una sola causa io considero tutte quelle cose come una cosa particolare ora scusatemi la definizione indiretta dell'inglese è forse un po' un po' macchinosa ma cosa ci dice Spinoza ci dice che quando più entità contribuiscono attivamente alla produzione di uno stesso effetto io definisco quell'entità congiuntamente unite come una sola cosa e questo è il succo della teoria della mente stesa della cognizione stesa l'idea è che quando dei processi esterni dei dispositivi che utilizziamo partecipano attivamente ovviamente Spinoza mi intendeva questo ma l'applico questa definizione alla teoria della mente stesa perché quando dei dispositivi che noi utilizziamo si operano congiuntamente i nostri processi cerebrali e i nostri processi manipolativi quindi come noi utilizziamo quella risorsa ecco che congiuntamente realizza i nostri processi cognitivi e quindi la teoria della mente stesa ci dice che non dobbiamo considerare quel dispositivo semplicemente come un mero dispositivo esterno ma come un istanziatore dei nostri stati mentali e dei nostri processi cognitivi qui si parla ovviamente la teoria della mente stesa parte dalle scienze cognitive le scienze cognitive hanno alcuni presupposti fondamentali che adesso andremo ad esplorare ad analizzare innanzitutto condivido una schermata e appunto da cosa parte la teoria della mente stesa beh parte dalle scienze cognitive classiche e le mette in discussione mantenendone alcuni assunti fondamentali mentre cercando di scardinarne altri le scienze cognitive classiche qua parlo del classico al cognitivo sandwich le scienze cognitive classiche partono da tre presupposti fondamentali la prima è il funzionalismo cioè l'idea che noi possiamo individuare una la mente studiare la mente studiare i processi cognitivi astraendo dai processi cerebrali quindi non dobbiamo per fatto studiare il cervello ma noi astraiamo dal processo cerebrale ciao Mattia grazie per essere qui buonasera e e andiamo a studiare la mente come diciamo così da un punto di vista superiore no da un livello di analisi che fa astrazione dei particolari materiali dei particolari processi appunto materiali quindi il cosiddetto realizzatore e si studiano i processi realizzati a quel livello superiore a un livello di astrazione superiore perché questo? perché si abbracciano una posizione funzionalistica? perché negli anni 60 si è capito che negli anni 60-70 grazie a Putnam Hillary Putnam si è capito che la posizione della identity theory ovvero l'idea che gli stati mentali coincidano con gli stati cerebrali era una teoria appunto inadeguata era una teoria debole perché? perché noi possiamo immaginare una creatura diversa da noi con dispositivi cerebrali corporei diversi che tuttavia può istanziare gli stessi stati mentali noi stessi abbiamo correlati neurali diversi e data la nostra plasticità neurale diverse configurazioni neurali possono istanziare lo stesso stato mentale quindi appunto in questo modo l'identity theory che faceva collassare il mentale sul fisico sul materiale sul neurale non riusciva a spiegare la cosiddetta realizzabilità multipla dei processi cognitivi e dei processi mentali e quindi per riuscire a spiegare questa realizzabilità multipla l'idea che diversi sostrati materiali possano dare possano realizzare appunto il termine tecnico lo stesso stato mentale lo stesso processo cognitivo si è abbracciato una prospettiva funzionalista chiaramente anche questa prospettiva ha molti problemi però è uno dei presupposti fondamentali metodologici e ontologici delle scienze cognitive classiche e anche come vedremo della teoria della mente estesa quindi è per questo che si può dire che la risorsa esterna contribuisce nel suo ruolo causale in realtà ha un ruolo anche costitutivo della mente o dei processi cognitivi perché? perché noi andiamo a individuare il suo ruolo funzionale non ci interessa che il materiale di questa risorsa esterna sia diverso dai processi neurali perché appunto il funzionalismo astrae delle condizioni materiali e va a individuare appunto il contributo funzionale che la risorsa materiale sta offrendo quali altri due presupposti appunto della scienza cognitive classica? un altro presupposto è il computazionalismo quindi l'idea che i processi mentali e i cognitivi possano essere studiati come processi logici processi logici di inferenza e di appunto manipolazione simbolica e questo nasce perché questa idea nasce perché appunto le scienze cognitive classiche nascono congiuntamente con l'intelligenza artificiale e che quindi si cercava di realizzare questi si inizia a pensare il pensiero la mente come utilizzando la metafora del computer per cui il cervello era pensato come l'hardware la mente come appunto il software quindi una programma che può essere installato su più dispositivi su più realizzatori materiali e che è semplicemente essenzialmente appunto un insieme di processi di manipolazione simbolica che dato i particolari input ti può attraverso una funzione realizzare particolari output comportamentali quindi da qui nasce l'idea del cosiddetto cognitive sandwich ovvero l'idea che ci siano i nostri processi funzionano in questo modo da una parte abbiamo gli input percettivi scusate se le slide sono in inglese ma le ho fatte sia per la tesi sia per una presentazione della mia tesi che ho fatto alla New York University che era in inglese quindi non sono stato a tradurla però è tutto molto chiaro gli input percettivi sono appunto il primo tassetto del cognitive sandwich in mezzo ci sono i processi cognitivi come manipolazione simbolica come trasformazione di strutture informazionali e rappresentazionali e quindi la cognizione è appunto isolata all'interno dei processi neurali e infine ci sono gli output comportamentali ora questo assunto fondamentale viene chiamato anche metodological solipsism quindi metodological isolation insomma l'idea che noi dobbiamo isolare semplicemente a livello cerebrale quelle strutture simboliche che appunto vengono implementate e realizzano i processi cognitivi questo è ciò che la extended view vuole superare l'extended view vuole superare il cognitive sandwich vuole appunto superare l'idea che è soltanto il cervello a realizzare gli stati mentali e i processi cognitivi e come fa a farlo beh setting the scene for the extended view quindi gettando le basi gettando i presupposti fondamentali dell'extended view quali sono queste basi beh nella prima parte della mia tesi ho cercato di fare una breve ricostruzione storica di quei contributi fondamentali nella filosofia nelle scelze cognitive nell'intelligenza artificiale nella psicologia e così via che hanno posto le basi per il superamento del cognitive sandwich perché queste ricerche hanno mostrato che sono citate qui in basso hanno mostrato che la manipolazione di informazioni che può essere considerata come cognitiva non include necessariamente soltanto i processi cerebrali ma anche processi corporei e manipolazioni di risorse esterne qui c'è l'immagine di un cieco con un bastone perché questo? beh perché l'esempio del cieco con un bastone viene citato da tantissimi autori forse uno dei primi è Marlopontini nella fenomenologia della percezione ma poi viene ripresa da Bateson viene ripresa da poi di autori dell'extended view perché si prende questo esempio? beh perché il cieco che usa il bastone cosa sta facendo? sta utilizzando una risorsa esterna come la sta esattando se usiamo la terminologia evoluzionistica quindi sta utilizzando una risorsa che aveva una funzione diversa e che lui il cieco non ha capacità di visione con gli occhi quindi lui riesce a esattare questa sua funzione percettiva come utilizzando la funzione di una risorsa esterna in un modo nuovo per cui il cieco che semplicemente ha un accesso tattile al mondo perché lui sta toccando per terra in realtà questa informazione tattile lui la utilizza in un modo visuale in un modo rappresentazionale riesce a mappare l'ambiente circostante e a orientare il suo comportamento e ai suoi movimenti quindi appunto l'esempio del cieco con il bastone viene preso molto spesso perché perché il cieco sta effettivamente estendendo il proprio processo cognitivo e percettivo come con una risorsa esterna che gli permette di avere un accesso al mondo la cosa importante è che questo accesso al mondo non è un accesso mediato dal bastone il cieco è come se non stesse usando un bastone in quanto bastone ma sta usando un bastone in quanto mappatura dell'ambiente e quindi il bastone si dice in termini in gergo diventa una una risorsa trasparente dal punto di vista fenomenologico ovvero il cieco non fa esperienza semplicemente del tatto del bastone ma fa esperienza attraverso il bastone è questa differenza quindi fare esperienza del bastone o fare esperienza attraverso il bastone noi quando abbiamo le lenti a contatto come ce le ho io adesso io non faccio esperienza delle lenti a contatto io faccio esperienza attraverso le lenti a contatto le lenti a contatto come il bastone del cieco diventano un trasparente equipment diventano una risorsa trasparente dal punto di vista fenomenologico ovvero io non percepisco la mediazione della risorsa ma semplicemente la uso la vivo come appunto un mio canale percettivo e in questo modo appunto si può dire che la risorsa esterna diventa parte del mio processo percettivo diventa un contributore un contributore che senza il quale appunto io non potrei performare il mio processo cognitivo non potrei realizzarlo e che quindi può a tutti gli effetti essere considerato un contributo costitutivo una delle questioni che affronteremo stasera proprio la differenza tra contributo causale e contributo costitutivo perché? perché appunto i critici della natura della mente stesa diranno che il contributo del bastone per il cieco della lente a contatto o dei dispositivi che estendono la cognizione invece che la percezione sono semplicemente un contributo causale quindi qui c'è una questione ontologica di come distinguiamo un contributo causale da contributo costitutivo ma la vedremo più tardi la nozione appunto di trasparente equipment di risorsa trasparente al piano fenomenologico Marlo Ponti la riprende da Heidegger in Essere Tempo Heidegger appunto parla del fatto che noi utilizziamo gli enti come manipolanda come oggetti in cui ci serviamo per agire nel mondo per appunto fare esperienza del mondo del senso del mondo in cui siamo immersi e quindi appunto e diciamo così c'è un ponte che collega Heidegger con l'idea di trasparente equipment Heidegger dice noi possiamo utilizzare gli strumenti in due modi o attraverso un approccio rappresentazionale quindi io posso appunto fare esperienza della penna ad esempio che ho in mano come un oggetto tematico del mio pensiero posso mettermi lì concettualizzarla rappresentarla studiarmi le proprietà studiarmi le caratteristiche e in questo modo è un oggetto tematico un oggetto rappresentazionale ma nel momento in cui io invece utilizzo la penna per completare i miei compiti nella mia gira quotidiana la penna perde questo carattere tematico di oggetto del pensiero e diventa semplicemente uno strumento attraverso cui io faccio esperienze completo i miei compiti cognitivi e completo le mie operazioni quindi può diventare un certo senso transparent equipment in questo senso quindi questa nozione di transparent equipment di Heidegger viene ripresa da Marleau-Ponty e poi attraverso Marleau-Ponty viene ripresa poi appunto dai teorici della mente estesa un altro contributo importante di Marleau-Ponty è quello di anticipare in un certo senso la nozione di affordance la nozione di affordance di Gibson Gibson dice attenzione perché i processi percettivi sono processi in cui il mio movimento del mio corpo e la mia azione sul mondo permettono di fare a meno di quel cosiddetto cognitive burden quindi il quel peso cognitivo che invece le scienze cognitive classiche postulano perché le scienze cognitive classiche in particolare Marleau-Ponty come cito qua è appunto a lui ha fornito una teoria della percezione che dice che la percezione ci dà una rappresentazione adeguata del mondo lo scopo della percezione sarebbe quello di costruire un modello una mappa interna costantemente aggiornata bene la nozione di affordance di Gibson e poi tutte le ricerche appunto degli anni 90 in particolare sulla percezione ci mostro che invece la percezione è molto più dinamica è molto più diciamo così molto più engaged nel mondo di quanto le scienze cognitive classiche non postulassero lo scopo della percezione non è tanto quello di costruire un modello adeguato della realtà ma quello di permetterci attivamente di attingere costantemente l'informazione dalla realtà ora questo sembra una differenza sfumata ma in realtà appunto ci sono degli esperimenti che dimostrano che noi quando percepiamo una scena in realtà noi non stiamo percepando anche se abbiamo un'illusione di percezione completa della scena perché il nostro cervello ci dà questa visione immagine completa in realtà la maggior parte delle informazioni della scena non sono disponibili immediatamente il cervello assume una disponibilità diciamo così on demand della scena e quindi noi facciamo nonostante la nostra esperienza sia un'esperienza della scena completa in realtà noi non abbiamo accesso diretto a tutti i contenuti della scena però il cervello cosa dice siccome il mondo è sempre là fuori io non ho bisogno di farmi un modello completo del mondo ma posso continuamente direzionare i movimenti dei miei occhi e recuperare l'informazione nel momento in cui mi serve quindi in questo modo gli studi degli anni 90 sulla percezione ci mostrano che il cervello i processi corpori quindi il movimento degli occhi e così via sono molto più dinamici e molto più engaged nel mondo di quanto le scienze cognitive classiche non postulassero non credessero ora questo sulla percezione è solo un esempio ci sono altri esempi ad esempio in robotica Rodney Brooks ci mostra come alcuni robot possono essere costruiti senza un modello complesso della realtà ma attraverso comportamenti costanti nell'interazione con l'ambiente tuttavia cerchiamo di arrivare al solo cerchiamo di arrivare al passaggio che porta finalmente diciamo così all'extended view ci sono anche numerosi diciamo così analogie tra il cambiamento ok non vorrei interromperti Guido ma sono troppo tentato no interrompetemi pure perché è bello così perché altrimenti è un monologo quanto è rilevante il contributo della coscienza in contrasto con l'inconscio cognitivo rispetto all'estensione della condizione credi che si possa attribuire alla coscienza il ruolo di tenere insieme un solo più di esteroità ancora più da definirsi in una condizione per l'altra allora Jacopo pone una questione molto interessante e anche molto controversa cioè il ruolo della coscienza nella estensione mentale cognitiva allora la teoria della mente estesa come vedremo dopo riguarda stati disposizionali inconsci ad esempio voi tutti sapete che Madrid è la capitale della Spagna ora questa conoscenza non ce l'avevate adesso nella coscienza finché non ve l'ho nominata io ce l'avevate così in un deposito inconscio della vostra memoria quindi la teoria della mente estesa per come è stata formata originariamente riguardava gli stati inconsci a cui noi potevamo accedere attraverso appunto altri processi percettivi ad esempio quindi la coscienza in realtà questa cosa è interessante perché Clark il maggiore esponente autoriamente estesa e anche lo stesso Chalmers sono scettici sulla possibilità di estendere la coscienza nel senso che loro ritengono che la coscienza abbia una caratteristica proprio per il suo binding informazionale per motivi o di accesso diretto o motivi di constraint temporale quindi limiti di accesso temporale secondo loro la coscienza non può essere estesa come invece stendiamo altri tipi di processi per cui anche quando parliamo di processi cognitivi estesi in realtà si assume che ciò che realizza appunto lo stato cosciente in realtà sia solo neurale ora data questa risposta rilego la domanda così vediamo cosa posso dire quanto è rilevante il contributo della coscienza il contributo della coscienza è e questo è interessante perché molti alcuni critici soprattutto gli italiani quindi di Fereda e di Francesco criticano la teoria della mente estesa proprio partendo da un mark ovvero una definizione del mentale fortemente coscienzialista ma magari lo vediamo dopo quindi magari questa questione della coscienza la vediamo meglio dopo comunque grazie Jacopo per aver posto la questione che è una delle più controverse e quindi non ho neanche avuto spazio in realtà di affrontarla più di tanto nella tesi perché ho assunto semplicemente che la coscienza fosse realizzata internamente come fanno i maggiori sostenitori internamente estesa e mi sono occupato appunto dei processi subpersonali quanto rientra Kant in questi discorsi quanto siamo andati oltre quanto dobbiamo allora mostro il commento quanto rientra Kant in questi discorsi quanto siamo andati oltre quanto abbiamo superato il concetto di coscienza rispetto a quello che è espresso da lui rispondi quando vuoi magari anche questo lo affrontiamo dopo comunque me lo tengo me lo tengo qui la posizione di Kant sì sì dovrei pensarci un attimo allora Umberto Guerra grazie mille per le domande dopo magari quando ritorno sui specifici temi magari le affronto come si fa a fare quindi a conciliare l'idea scientifica di un mondo oggettivo con il fatto che la realtà di cui possiamo fare esperienza sia solamente proiettiva di ogni organismo questo ok questo è il problema del realismo della percezione beh direi ti consiglio un libro che si chiama teoria evoluzionaria della conoscenza traduzione pessima di Gerard Vollmer e lui ci mostra che appunto in realtà la nostra percezione anche se è filtrata da appunto la nostra esperienza del mondo quindi la nostra esperienza del mondo è filtrata da quello che siamo dalla nostra storia evolutiva e così via dalla nostra cultura dal nostro linguaggio ma ciò non significa che sia arbitraria semplicemente è filtrata questo filtro noi possiamo appunto in un certo senso bypassarlo come con gli strumenti scientifici e con con ad esempio la modellizzazione matematica e così via per cui il fatto che la nostra esperienza della realtà sia filtrata non pregiudica la possibilità di conoscere il mondo anzi appunto l'idea che noi abbiamo il fatto stesso che noi abbiamo una percezione della realtà questa percezione della realtà è abbastanza realistica perché perché altrimenti ci diceva Vollmer ci saremmo estinti Gerard Vollmer tornando alla posizione di Kant e in realtà il primo a aver fatto questa posizione è Spencer Spencer capisce che le forme trascendentali di Kant in realtà vanno naturalizzate per cui quello che Kant dice le nostre forme con cui noi concettualizziamo il mondo e con cui noi facciamo l'esperienza del mondo in realtà non sono altro che il risultato di una storia evoluzionistica di noi organismi umani che ci siamo interazionati con l'ambiente che abbiamo interagito con l'ambiente per cui appunto le nostre capacità percettive e cognitive sono state selezionate evoluzionisticamente quindi noi abbiamo questo filtro parziale del mondo ma è un filtro che funziona è un filtro che ci dà una rappresentazione abbastanza adeguata del mondo perché altrimenti ci saremmo estinti tuttavia come sappiamo abbiamo numerosi bias cognitivi abbiamo numerose distorsioni cognitive ci sono le illusioni percettive perché? perché questa nostra rappresentazione del mondo è adeguata fino a un certo punto è sufficientemente adeguata ma noi riusciamo appunto a potenziarci cognitivamente come? attraverso la cultura e quindi riusciamo in un certo senso attraverso la cultura la modellizzazione e lo studio empirico della realtà a superare questi limiti dei filtri che abbiamo in un certo senso quindi secondo me con questa risposta credo di aver dato una risposta parziale sia a Umberto che alla questione di Kant e la posizione è importante perché perché la teoria della mente stesa in particolare Clark perché qua bisogna distinguere vari autori ovviamente Clark scrive un libro nel 2003 si chiama Natural Born Cyborgs è tradotto anche in italiano Cyborg Nati la traduzione in italiano fa schifo Cyborg Nati in cui ci mostra proprio questo ci mostra come i nostri processi culturali sono un modo in cui noi effettivamente ci potenziamo cognitivamente e riusciamo appunto a estendere sia le nostre competenze cognitive che la nostra conoscenza del mondo ora volevo fare giustamente giusto una breve analogia tra le rivoluzioni che sono avvenute nelle scienze cognitive classiche e all'interno dei paradigmi evoluzionistici perché perché appunto la scienza cognitiva classica è come se avesse lo stesso errore del cosiddetto paradigma panglossiano in biologia evoluzionistica Gould critica cosiddetto paradigma panglossiano cosa ci dice il paradigma panglossiano ci dice che date particolari pressioni selettive un organismo ha sviluppato dei determinati adattamenti perfettamente adattati a quelle pressioni selettive quindi dato un particolare problema ambientale l'organismo ha evoluto ha sviluppato un tratto che in un certo senso rispecchia perfettamente quel problema ambientale quindi problema ambientale X funzione Y che matcha no scusco problema ambientale X funzione tratto biologico X che matcha perfettamente il problema ambientale con la struttura anatomica dell'organismo c'è questo perfetto rispecchiamento di esterno e interno le scienze cognitive classiche facevano questo errore anche loro perché? perché dicevano che dato un particolare problema ambientale di una scena ambientale la cognizione non fa altro che creare un modello adeguato di quella scena internamente attraverso un processo simbolico ora questo si è mostrato come in realtà non è così perché appunto il cervello tra virgolette è pigro nel senso che il cervello non ha bisogno di costruire un modello adeguato della realtà al suo interno quando può costantemente utilizzare una varietà di risorse diverse per risolvere quel compito per cui sicuramente ci saranno dei processi cognitivi interni ma questi saranno semplicemente costantemente supportati da quello che il mondo stesso ci offre per cui appunto l'esempio della percezione è quello noi non abbiamo bisogno di avere una scena completa nella nostra percezione perché come dice Brooks noi possiamo usare il mondo come il suo miglior modello ovvero using the world as its own best model per cui questo cosa significa significa che questa è la prospettiva embodied ed embedded della 4e cognition le scienze cognitive classiche a partire dagli anni 90 sono state trasformate da cosiddetta 4e cognition 4e cosa vuol dire embodied quindi cognizione incarnata il corpo gioca un ruolo fondamentale nella strutturazione e nell'implementazione di processi cognitivi embedded nel senso che l'ambiente gioca un ruolo fondamentale nel modo in cui noi poi strutturiamo quei processi facciamo quelle esperienze e andiamo a costruire il modo con cui noi risolviamo quei problemi ambientali extended che è quella che analizziamo oggi e poi c'è l'inactive che è ancora più problematica perché? perché l'inactive invece parla proprio della coscienza estesa l'inactive è ancora più controverso dell'extended cognition perché ci dice che non soltanto i nostri processi cognitivi ma anche proprio la nostra stessa esperienza cosciente è costantemente strutturata dall'esperienza che facciamo anche qui sembra una banalità detta così però un conto è considerare la risorsa esterna come ciò che contribuisce causalmente a realizzare internamente un processo cosciente e considerare invece la risorsa esterna la scena percettiva ambientale come il costituente stesso della coscienza quindi la posizione inactive in particolare di Alva Noè è ancora più radicale dell'extended view quindi ho fatto questa analogia bene il problema delle scienze cognitive classiche è che anche dal punto di vista sperimentale testavano le capacità cognitive del soggetto isolando le sue capacità neurali ovvero setting sperimentale si mette il soggetto lo si isola dal suo contesto ambientale normale e si testano le sue capacità cerebrali qual è la critica di Clark e la critica di Hutchins è l'idea che in realtà i soggetti umani quando devono preformare dei compiti cognitivi nella loro vita non sono costretti in questo modo noi costantemente utilizziamo delle risorse esterne per strutturare i nostri compiti cognitivi e quindi le scienze cognitive classiche hanno fatto un errore di iperattribuzione hanno attribuito al cervello delle capacità che in realtà dipendono costitutivamente dalla nostra relazione con l'ambiente e quindi si è attribuito tutto al cervello quando in realtà è stato fatto appunto un errore di iperattribuzione diciamo così ok arriviamo quindi arriviamo quindi qua arriviamo alla alla posizione di di Clark e Chalmers allora la loro posizione nel paper del 98 la definiscono active externalism e dicono appunto che l'organismo umano in generale gli agenti cognitivi sono continuamente si interagiscono continuamente con il mondo esterno e con le sue risorse quindi si può costruire un coupled system quindi un sistema accoppiato vedete che in Italia non fa schifo coupled system coupled system è figo un coupled system che in cui appunto le diverse risorse che interagiscono tra di loro hanno tutte quanto un ruolo causale attivo e congiuntamente realizzano il comportamento intelligente quindi un comportamento cognitivo un comportamento intelligente l'active externalism racchiude al suo interno sia la teoria della mente estesa quindi stati mentali estesi che la teoria della cognizione estesa per parlare della teoria della cognizione estesa Clark e Chalmers fanno l'esempio della rotazione mentale e prendono l'esempio del Tetris dicono beh noi possiamo immaginare il Tetris noi l'operazione cognitiva della rotazione mentale possiamo farlo in modi diversi loro si rifanno a uno studio di psicologia di Kirsch e Maglio del 94 che dimostrava come in realtà i soggetti che devono performare un compito cognitivo del Tetris quindi ruotare la figura e capire dove farla cadere in realtà quasi mai utilizzano una rotazione mentale ma semplicemente fanno ruotare la figura sullo schermo perché? perché in questo modo possiamo fare le cose in modo molto più veloce non abbiamo bisogno di avere una scena interna ma semplicemente manipoliamo il mondo esterno per vedere questo come si trasforma perché la rotazione mentale è più dispendiosa dal punto di vista della memoria di lavoro è più lenta è meno efficace e ti fa fare più errori quindi questo è un esempio di come appunto attraverso una manipolazione attiva dell'ambiente noi facilitiamo i nostri compiti cognitivi e appunto Clark e Chalmers dicono bene questa manipolazione esterna dell'ambiente questa manipolazione appunto del programma attraverso il mouse ad esempio viene considerata una azione epistemica quindi un'azione che non è dovuta non è semplicemente un output comportamentale come ci dicevano le scienze cognitive classiche per cui consideravano il comportamento semplicemente come un output che si realizzava una volta che i processi cognitivi interni erano finiti no non è semplicemente un output comportamentale ma è un output epistemico ovvero è un'azione che ci permette di manipolare l'ambiente quindi di trasformare l'informazione dell'ambiente non nel cervello e manipolando l'informazione dell'ambiente noi in certo senso stiamo offloadando appunto nell'ambiente quei compiti cognitivi che le scienze cognitive classiche avevano sempre pensate ad essere necessariamente interni la nozione di azione epistemica quindi è importante e Clark e Chalmers dicono beh noi possiamo anche immaginare un alieno che ha un dispositivo anche qui c'è sempre il marziano appunto la martial intuition l'idea che ci sia possiamo immaginare sempre un organismo diverso da noi ma che può instanziare capacità mentali analoghe o equivalenti in modo diverso e attraverso questo questo esperimento mentale ricorrente nelle posizioni funzionalistiche loro giustificano il fatto che siccome il cervello dell'alieno può implementare questo processo in modo completamente biologico o ibrido biologico e artificiale biologico e digitale dice anche le nostre manipolazioni e anche la nostra interazione biologico digitale con alcuni dispositivi può instanziare un processo cognitivo esteso non ha senso limitare la cognizione all'interno dei nostri processi cerebrale e quindi loro formalizzano questa idea con il cosiddetto con il cosiddetto appunto party principle il party principle cosa dice dice se considerando un particolare task cognitivo una parte del mondo esterna funziona come un processo il quale se avvenisse nella testa lo giudiceremo cognitivo allora quella parte del mondo esterno è cognitiva ripeto se una parte del mondo esterno contribuisce in modo funzionale a realizzare un comportamento cognitivo in un modo equivalente a un altro processo che se fosse nel cervello giudiceremo cognitivo allora cosa vuol dire vuol dire che noi intuitivamente consideriamo appunto ciò che avviene nel cervello come processi cognitivi allora loro dicono noi non dobbiamo avere questo pregiudizio internalistico e biocentric biocentrico perché se la funzione implementata dai dispositivi esterni che utilizziamo è la stessa delle funzioni cerebrali allora in virtù del funzionalismo un equivalente contributo funzionale deve corrispondere necessariamente a un equivalente status cognitivo nel momento in cui noi riduciamo o comunque identifichiamo la cognizione con un processo funzionale e quindi qui c'è ancora un commitment a alcuni principi fondamentali delle scienze cognitive classiche allora appunto per coerenza se attribuiamo se consideriamo cognitivo il processo interno del cervello dovremmo considerare cognitivo anche quel processo anche se una volta che viene esternalizzato ora qui il parity principle è molto criticato è molto criticabile perché perché tutto dipende dal tipo di da come lo identifichiamo questo ruolo funzionale a quale livello di dettaglio ci stiamo focalizzando questa equivalenza funzionale tra la risorsa esterna e la risorsa interna come viene individuato e questa è una delle critiche fondamentali che dopo andremo a vedere quindi per quanto riguarda l'extended cognition quindi i processi cognitivi estesi Clark e Charmers usano l'esempio del Tetris per quanto riguarda gli stati mentali estesi parlano dell'esperimento mentale di Otto e Inga un esperimento che insomma questo esperimento mentale gli ha valso diciamo così la fame in peritura perché perché sono 25 anni che si scrivono paper su questo esperimento mentale per cui se in filosofia vuoi fare successo scrivi una cosa controversa e sei sicuro che ti citeranno infiniti paper e salirai nel ranking del ranking accademico in questo modo questo esperimento mentale per quanto banale è ha fatto il botto loro ci dicono bene immaginiamo due soggetti uno appunto un soggetto normale appunto che si chiama Inga e un soggetto con l'alzheimer che si chiama Otto allora tutti e due devono ricordarsi un'informazione ovvero che il MoMA il museo di modern heart di New York si trova nella 53esima strada di New York ci sono stato è una figata quindi entrambi devono ricordarsi questa informazione allora Inga che è un soggetto cognitivo normale senza disabilità cognitiva senza problemi semplicemente ricorda l'informazione immagazzinandola nella sua memoria biologica Otto invece che soffre di una particolare riforma di alzheimer cosa fa? deve semplicemente e costantemente registrare queste informazioni viene da parlare in inglese viene a registrare queste informazioni nel taccuino in un taccuino che si porta sempre vieto quindi c'è questo taccuino questo notebook in cui appunto Otto scrive tutte le informazioni che si deve ricordare queste informazioni sono informazioni appunto con un contenuto semantico che secondo Clark e Chalmers diventano effettivamente ricordi esternalizzati del soggetto ricordi disposizionali quindi non sono stati mentali coscienti ma sono stati mentali inconsci che però nel momento in cui vengono recuperati guidano il comportamento nel modo adeguato come fanno appunto le credenze disposizionali per cui nel momento in cui Otto vuole andare a un desiderio voglia andare al MoMA invece che cercare nella memoria questa informazione accede al suo taccuino recupera l'informazione e va al MoMA quindi loro dicono che da un punto di vista funzionale il taccuino svolge lo stesso ruolo che il cervello di Inga o che quella parte del cervello di Inga svolge per Inga quindi per coerenza usando il parity principle il notebook diventa appunto una risorsa esternalizzata che esternalizza i suoi processi i suoi stati mentali quindi il notebook gioca lo stesso ruolo funzionale e quindi abbiamo uno stato mentale esteso ora qui devo introdurre una parola ho parlato di livello di dettaglio a livello funzionale si distinguono due livelli di dettaglio un livello di dettaglio ad ampio spettro diciamo così per cui appunto noi consideriamo l'equivalenza sul piano del comportamento e quindi si parla di coarse grained coarse grained quindi a grana grossa anche qui in italiano fa schifo coarse grained ovvero l'equivalenza vale sul piano del comportamento entrambi bene o male si comportano in modo equivalente nel momento in cui devono ricordare questa informazione ma a livello fine grained quindi a livello di grana fine o a livello di elevato livello di dettaglio chiaramente i processi sono diversi perché? perché Inga semplicemente attraverso un processo di introspezione accede al ricordo attraverso un processo subpersonale per cui Inga non è che si mette a pensare dove si trova il suo ricordo semplicemente accede al suo ricordo attraverso i processi cerebrali mentre invece Otto prende il taccuino lo sfoglia trova l'informazione e così via quindi accedere all'informazione percettivamente quindi è chiaramente che è chiaro che a livello fine grained quindi se consideriamo il livello di dettaglio elevato le differenze sono tantissime per cui la posizione di Clark e Chalmers loro la giocano sul piano coarse grained ovvero loro la giocano sul piano di un cosiddetto common sense functionalism funzionalismo del senso comune o la cosiddetta folk psychology la folk psychology è l'implicita teoria filosofica che ognuno di noi ha nell'attribuire stati mentali alle altre persone noi abbiamo in quanto esseri umani fin da piccoli interagiamo con altre agenti cognitivi quindi noi riusciamo ad attribuire stati mentali stati intenzionali alle altre persone e dare una spiegazione ai loro comportamenti per cui vedo un comportamento gli dico questa persona ha dolore questa persona desidera quell'oggetto questa persona ha paura e così via quindi la folk psychology attribuisce stati mentali sulla base del comportamento e noi abbiamo un'ampia gamma di insomma noi riusciamo ad attribuire stati mentali in modo flessibile proprio perché attanto siamo agenti cognitivi e sociali ora loro dicono se noi consideriamo la common sense psychology il common sense functionalism è legittimo attribuire a otto uno stato mentale esteso perché? perché a livello del comportamento il suo comportamento è equivalente a quello di Inga ora però non è sufficiente questo il taccuino affinché possa essere una parte estesa della mente dei otto deve rispettare tre, quattro condizioni loro pongono all'inizio ovvero il taccuino deve essere costantemente usato nella vita della gente il taccuino deve essere l'informazione nel taccuino in particolare deve essere direttamente disponibile senza difficoltà l'informazione è accettata direttamente senza metterla senza metterla in discussione e perché viene accettata direttamente in virtù di un path and loss and criterion ovvero di una di un'accettazione conscia passata cioè otto ha accettato coscientemente quell'informazione e l'ha scritta quindi nel momento in cui la recupera lui l'accetta come vera l'accetta come qualcosa di cui si può fidare come Inga fa per quanto riguarda i suoi ricordi quindi queste sono le cosiddette glue and trust condition ovvero condizioni di colla e fiducia se la risorsa esterna rispetta queste risorse di colla e fiducia queste risorse di glue and trust condition ok adesso ci sono le domande adesso le guardo finisco il discorso loro dicono queste condizioni glue and trust sono sufficienti a garantire che la risorsa esterna nel momento in cui rispetta anche l'equivalenza funzionale possa essere considerata come un'estensione della mente del soggetto e ricordiamo quindi che lo stato mentale esteso è uno stato disposizionale è una credenza disposizionale quindi non una credenza cosciente ma una credenza che svolge un ruolo funzionale equivalente a quello della cervella di Inga Ettore allora adesso vediamo una domanda Ettore Ferro non vorrei dire scemenze ma banalmente qualsiasi creazione in base al vero di profondità con cui è stata accrata dall'uomo a un certo punto guadagna il significato di estensione di quella persona bisogna capire cosa si intende estensione di cosa tu hai parlato di estensione della persona allora il concetto di persona è quello che vorrei approfondire nel mio dottorato quindi parlare di persona è un conto parlare di mente è un altro parlare di corpo è un altro ancora per cui l'estensione della persona può realizzarsi su diversi piani si possiamo parlare di estensione cognitiva di estensione corporea di estensione della persona in quanto persona quindi dello spattuto morale della persona e tu dici non vorrei dire scemenze ma banalmente qualsiasi creazione in base al livello di profondità ma cosa si intende cosa si intende con il livello di profondità con cui è stata creata dall'uomo non capisco cosa intendi con questa cosa qua il livello di profondità con cui è stata creata dall'uomo non capisco questo se magari me lo puoi spiegare se no faccio fatica allora Jacopo ci dice qual è il rapporto tra queste teorie filosofiche orientate a una teoria diciamo neurobiologica del funzionamento del cervello tra queste teorie filosofiche orientate e una teoria biologica forse fuori tema no 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 non è assolutamente fuori tema anzi queste teorie proprio si oppongono a una teoria neurobiologica nel senso che non so se c'era all'inizio ho mostrato come le scienze cognitive classiche si basano sul presupposto del funzionalismo il funzionalismo nasceva in contrapposizione alla cosiddetta identity theory l'identity theory la teoria dell'identità dice che gli stati mentali i processi cognitivi corrispondono sono identici ai processi cerebrali o neurofisiologici o come li vogliamo definire per cui l'identity theory però non funziona nel senso che i processi mentali hanno delle proprietà e delle caratteristiche che non sono attribuibili a appunto i processi cerebrali prima in realtà tutti ad esempio l'intenzionalità per cui è la realizzabilità multipla per cui se noi diciamo che il mentale corrisponde ad esempio l'attivazione di quei neuroni beh allora non riusciremo a spiegare il fatto che altre creature magari con stati mentali analoghi hanno una diversa configurazione cerebrale in un certo senso la realizzabilità multipla ci dice che i processi di livello superiore come appunto i processi mentali cognitivi non sono riducibili a un set di condizioni o di proprietà fisiche che riescano a cioè sono abbiamo detto non possono essere ridotte sul piano esplicativo a un insieme di proprietà fisiche definibili per cui chiaramente questa posizione sono posizioni materialiste nel senso che noi non stiamo parlando di una posizione dualista che dice che la mente è staccata dal corpo è qualcosa di altro e oltre assolutamente no la posizione funzionalista ci dice che la mente e i processi cognitivi sono realizzati da stati materiali fisici ma non sono esplicativamente riducibili e anche ontologicamente in realtà riducibili ad essi si pongono su un livello superiore perché appunto hanno delle proprietà delle caratteristiche che i processi cerebrali appunto non hanno per cui in realtà la truola della mente estesa e le scienze cognitive in generale una qualsiasi posizione funzionalista ovviamente ritengono che il cervello abbia delle caratteristiche fondamentali ma che il mentale non sia riducibile ontologicamente al neurofisiologico per cui è una posizione di contraposizione sì allora oggi dire ad un neuroscienziato che l'attivazione di popolazione orale significa più di quello che sembra in termini fisicalisti è molto difficile dire ad un neuroscienziato che l'attivazione significa più di quello che sembri in termini fisicalisti è molto difficile più di quello che sembra davvero non ho capito forse hai detto mi hai rubato il dottorato ah ok beh che vinca il migliore allora Ettore mi ha risposto intendo quando una persona è legata a ciò che ha costruito ok ok legata però anche qui cosa intendi con legata intendi tu da un punto di vista affettivo o da un punto di vista cognitivo nel senso che si parla appunto anche di affective artifacts quindi il modo con cui io sono legato da un punto di vista emotivo ha un dispositivo questo però non rende quel dispositivo necessariamente una parte costitutiva della persona può essere significativo per la persona ma non può essere necessariamente una parte come per otto i suoi ricordi sul taccuino ok quindi otto ha prodotto quel taccuino bene ha prodotto i ricordi certo ha prodotto i ricordi ma la produzione diciamo il fatto che tu produci qualcosa è condizione necessaria ma non sufficiente anzi in realtà non è nemmeno necessaria è condizione è una condizione dell'estensione ma non è la sola condizione perché non è che tutto quello che produci diventa parte necessariamente di te altrimenti noi ci saremmo estesi infinitamente allora l'entità umana che è un'attività che è un'entità che costruisce cose costruisce oggetti artefatti sarebbe infinitamente estesa quindi in realtà il fatto che noi produciamo cose non è sufficiente a garantire che quelle siano estensioni di noi altrimenti il rischio è una forma di dualismo l'ho buttata lì l'ho buttata un po' lì in effetti non avevo proprio dei punti chiari nella mia domanda dovevi prima capire meglio l'argomento sì sì ma fate pure domande anzi mi fa piacere che le facciate ora torno al mio discorso qui Otto e Inga la equivalenza funzionale le green trust condition le opposte ecco appunto loro dicono non è sufficiente il fatto che Otto abbia prodotto delle informazioni no abbia scritto un'informazione che la rende parte della sua mente perché altrimenti tutti gli appunti che ho preso io dall'inizio della scuola miliardi di quaderni sono tutti estensioni della mia mente no non è sufficiente il fatto che tu abbia scritto un'informazione esterna che tu hai accettato coscientemente questa informazione deve rispettare anche le altre condizioni e deve essere costantemente utilizzata nella vita del soggetto deve essere direttamente disponibile deve essere automaticamente accettata e deve giocare quel ruolo equivalente ai processi cerebrali per cui nel momento in cui io svolgio un compito cognitivo mi affido a quella risorsa quella risorsa mi permette di completare quel task cognitivo e quindi quella risorsa ha uno statuto cognitivo per cui in questo modo il filtro si questo qui è un filtro per evitare il cosiddetto problema del cognitive bloat il cognitive bloat o esplosione cognitiva è il fatto che se noi diciamo che la mente si estende dobbiamo porre delle condizioni precise ai limiti di questa estensione altrimenti tutto è mente altrimenti tutto è cognizione quindi il problema appunto uno dei problemi fondamentali dell'extended view è proprio quello di porre delle condizioni di estensione ma anche delle condizioni di limite di queste estensioni altrimenti tutto diventa mentale altrimenti siccome io ho scritto un quaderno dieci anni fa quel quaderno non è necessariamente parte della mia mente e dei miei processi cognitivi se l'ho lasciato lì e non rispetto alle altre coupling condition quindi questo è importantissimo è uno dei problemi fondamentali allora le due posizioni come si giustifica l'extended view da un punto di vista argomentativo c'è un argomento epistemologico esplicativo e un argomento ontologico l'argomento esplicativo l'argomento epistemologico ci dice che quando c'è effettivamente un couple system per cui noi dobbiamo essere un sistema accoppiato con la risorsa esterna quando c'è un couple system ed è così accoppiato nel senso che il comportamento del sistema esteso è tale che non può essere ridotto alla spiegazione dei singoli comportamenti dei suoi due sottosistemi ma deve essere considerato come un sistema integrato per non perdere il potere esplicativo allora siccome stiamo parlando di un sistema esteso è legittimo appunto parlare ad esempio di estensione cognitiva perché? perché i due sottosistemi sono legati da un punto di vista esplicativo per spiegare il comportamento del sistema nel suo complesso io non posso considerare i due sistemi come separati in certo senso come separabili per cui da un punto di vista esplicativo ne consideriamo il tutto come un tutto integrato da un punto di vista ontologico questa è molto più problematica è l'idea che la postulazione dell'esistenza di questo tutto non è ridondante non è ridondante perché? perché esistono delle proprietà di sistema che non sono riducibili alla somma lineare delle componenti ma che emergono appunto come proprietà emergenti e sono ad attribuire all'intero sistema del suo complesso quindi un sistema cognitivo un sistema mentale esteso esiste perché ci sono delle proprietà di sistema che non sono riducibili alla somma lineare delle sue componenti questo è un punto molto difficile molto controverso e forse è uno dei punti deboli dell'extended view quindi prendetelo con le pinze ovviamente comunque questa è la strategia argomentativa bene o male dell'extended view ora ci sono due versioni di questa teoria c'è la cosiddetta ah cavolo qua non si vede niente perché c'è la qua c'è un problema nella slide comunque ci sono due versioni dell'extended view la prima è la cosiddetta hybrid circuit hypothesis ovvero l'idea che noi possiamo immaginare e ci esistono già dei dispositivi integrati direttamente ai nostri processi cerebrali per cui noi non abbiamo accesso cosciente a quei dispositivi semplicemente questi funzionano congiuntamente ai nostri processi cerebrali e si parla appunto di sub-personal integration perché l'integrazione avviene sul piano sub-personale quindi noi non abbiamo accesso cosciente a quei processi ma semplicemente quei processi producono dei risultati a cui poi noi abbiamo accesso a livello personale livello personale vuol dire la mente di cui facciamo esperienza a cui abbiamo accesso cosciente mentre invece qua non si legge perché c'è la slide sbagliata si parla di sensory motor loop sensory motor loop vuol dire appunto tradotto in italiano fa schifo sensory motor loop quindi un loop percettivo e motorio che ci permette di connetterci alla risorsa esterna questo è un esempio classico un esempio classico è la cosiddetta il calcolo allora noi per performare calcoli a mente abbiamo dei limiti non riusciamo a performare calcoli troppo complessi a mente abbiamo le nostre capacità cerebrali cognitive sono limitate quindi cosa facciamo noi noi esternalizziamo il processo con un sistema formale simbolico appunto i numeri e scriviamo sul medium esterno della carta questi simboli in questo modo cosa succede in questo modo noi riusciamo a completare il task positivo complesso che sarebbe troppo complesso per il nostro cervello o flodando nell'ambiente il processo ora i teorici estesi ci dicono che in questo caso si parla di cognizione estesa perché appunto attraverso una serie di feedback loops la risorsa esterna mi permette di fare uno step inferenziale successivo che poi modifica e diventa un input allo stesso tempo dei nuovi processi che succedono all'interno questi processi producono un nuovo output questo output viene esternalizzato produce un nuovo input e così via quindi i teorici estesi ci dicono è inutile o comunque non è esplicativamente utile sul piano appunto esplicativo parlare di continui feedback loop di input e output è molto più comodo molto più elegante molto più sexy parlare di computazione estesa parlare di un processo cognitivo esteso in cui la carta svolge semplicemente un ruolo complementare o equivalente ai nostri processi cerebrali attraverso manipolazione motore quindi i movimenti del braccio che noi facciamo della mano che noi facciamo per scrivere e accesso percettivo a quei simboli noi completiamo appunto un compito cognitivo complesso ora è chiaro che il senso di motor loop va a minare l'idea che il cosiddetto cognitive sandwich l'idea che la cognizione sia semplicemente interna e che sia a metà strada tra tra appunto gli input percettivi e gli output comportamentali l'extended view ci dice attenzione perché gli input percettivi e gli output comportamentali non sono semplicemente una precondizione e il risultato della cognizione ma possono svolgere un ruolo costitutivo nell'organizzazione di compiti cognitivi complessi che altrimenti a livello cerebrale non riusciremo a svolgere e la cosa figa è questa cioè noi esseri umani siamo così overpower rispetto agli altri animali proprio perché esternalizziamo continuamente le nostre capacità proprio perché noi scriviamo ecco il linguaggio e la scrittura sono le estensioni cognitive fondamentali che la specie umana ha inventato e che le permettono appunto di fare scienza fare tecnologia e così via quindi noi siamo quello che siamo perché siamo appunto in realtà qui non è necessario dire necessariamente che la risorsa esterna è parte della mente o parte della cognizione tuttavia sicuramente scaffolda ovvero struttura struttura guida e trasforma i processi cognitivi interni ora qual è l'errore originario di Clark e Chalmers è l'errore originario quello di presentare il caso di Otto che accede percettivamente al taccuino manipola attraverso processi motori quelle informazioni poi le recupera e così via lo presentano come un caso di hybrid circuit hypothesis invece che come un caso di sensory motor integration perché loro ci dicono Otto ha un accesso al taccuino ed è integrato al taccuino in modo almost sub-personal in nature quindi ci dicono in modo quasi sub-personale cioè quello che ci dicono Clark e Chalmers del loro esperimento mentale originario è che Otto accede in modo automatico al taccuino è come se Otto fosse quasi quasi un automa nel momento in cui ricorda le cose quindi accede al taccuino è quasi come un processo cerebrale quasi come un processo automatico quindi capite che qui c'è una forzatura sia nella plausibilità dell'esperimento mentale ma anche nella limitazione quindi della portata dell'extended view perché in questo modo significa quasi depotenziare la appunto il sensore motor loop nel momento in cui presenti il caso di Otto come un caso di hybrid circuit hypothesis perché? perché appunto è come se stessero in un certo senso non riconoscendo che la percezione e i processi motori possano avere autenticamente un ruolo costitutivo nella condizione nel momento in cui ci dici che Otto in realtà è quasi è un accesso quasi sub-personale infatti qua sono le principali critiche alla cosiddetta first wave e qua ci sono tutte le abbreviazioni EM vuol dire extended mind first wave è la prima ondata quindi la prima formulazione di questa teoria che viene fatta appunto alla fine anni 90 quali sono queste critiche? la prima è che le cosiddette blue and trust condition quindi le coupling condition che vi ho fatto vedere prima quindi queste la risorsa deve essere costantemente disponibile direttamente accessibile l'informazione è automaticamente accettata e in virtù di un'accettazione cosciente passata queste condizioni sono sbagliate o non sufficienti perché sono sbagliate? perché i critici dicono noi abbiamo delle risorse cognitive interne che non rispettano queste condizioni per cui noi non abbiamo sempre accesso ad esempio alle nostre capacità creative magari solo in alcuni momenti riesco ad avere delle capacità creative ma se nonostante questa risorsa questa risorsa implementata e realizzata dal cervello non sia necessariamente sempre disponibile ciò non è la squalifica dell'essere cognitiva allora bisogna capire lo statuto di queste coupling condition l'errore dei critici è considerare queste coupling condition come ciò che rendono intrinsecamente cognitiva una risorsa ma in realtà le coupling condition vanno intese come quelle condizioni congiuntamente sufficienti che rendono cognitiva che rendono il contributo cognitivo meglio dire così della risorsa di una risorsa esterna per cui dobbiamo utilizzare un double standard un doppio standard per giudicare lo status cognitivo di una risorsa interna quindi cerebrale integrata a un organismo in virtù appunto di un processo biologico e di una risorsa esterna per cui innanzitutto bisogna fare chiarezza su questo e innanzitutto queste coupling trust condition non sono sufficienti non sono esaustive come vedremo più avanti un'altra differenza è che mentre 8 ha bisogno di un'accettazione cosciente dell'informazione quindi per appunto il cosiddetto past endorsement criterion INGA non ha bisogno di questo perché? perché i ricordi diciamo così implementati internamente parliamo di ricordi per distinguere parliamo di ricordi biologici nel caso di INGA ricordi normali e ricordi esternalizzati nel caso di 8 ora c'è una differenza fondamentale tra ricordi esternalizzati e ricordi biologici perché i ricordi biologici non hanno necessariamente bisogno di una past endorsement di una conscious endorsement noi possiamo acquisire dei ricordi anche attraverso un processo subliminale che non ha bisogno di un'accettazione cosciente ma adesso andiamo a concentrarci su in particolari tre differenze tre appunto criticità la prima è quella cosiddetta fine grain difference tra 8 e INGA l'idea che appunto ci siano molte differenze tra i due casi quindi se noi settiamo l'equivalenza su un piano coarse grain sul piano del comportamento sembrano anche equivalenti ma se poi andiamo a individuare le numerose differenze questi non risultano più equivalenti l'individuazione appunto del grado di analisi è arbitraria per cui loro dicono ah va bene voi individuate un'equivalenza ma lo fate sulla base di un livello di analisi totalmente arbitrario se nel livello di analisi si pone su un altro piano 8 INGA non sono equivalenti quindi 8 non ha una mente stesa INGA c'è del ricordo introspettivamente 8 usa la percezione quindi questa è un'altra differenza fondamentale e poi gli ultimi due che adesso cito e che dopo tratteremo è la cosiddetta capling constitution fallacy quindi l'idea che il fatto che una risorsa esterna svolga un ruolo causale nei processi cognitivi quindi abbia un'influenza causale dall'esterno ciò non fa sì che sia costitutiva del processo cognitivo quindi qua c'è una differenza sul piano ontologico tra la nozione di causa e la nozione di costituzione secondo i critici appunto i teorici estesi non fanno altro che trasformare un ruolo una relazione causale in una relazione costitutiva in un modo illegittimo e infine la differenza tra intrinsic e derived content che dopo vedremo allora cosa ho fatto io nel contenuto della mia tesi beh io ho cercato di allora un'altra critica importante che i teorici della mente stessa fanno è voi non potete dire che la mente e la cognizione si estendono senza darci una definizione di che cosa sia la mente e di che cosa sia la cognizione perché Clark e Chalmers nel loro tempo originario sono molto vaghi parlano di information processing parlano di computational task parlano di problem solving routine quindi sono definizioni molto ampie molto vaghe e non sufficientemente scientificamente definite di cognizione e mente quindi una critica fondamentale importante dei critici è voi dovete darci una definizione di cognizione altrimenti tutto vale altrimenti se non ci dite che cosa è la mente che cosa è la cognizione è facile dire che si estende quindi dovete essere rigorosi allora io cosa ho fatto la risposta di Clark a queste critiche è questa ovvero il cosiddetto matrix of cognition in realtà io io ho formalizzato la posizione di Clark in termini di matrix of cognition nel senso che ho studiato tutte le pubblicazioni di Clark dal 94 al 2011 e ho cercato di formalizzarla dandogli questa definizione Clark non parla mai di matrix of cognition sono io che parlo di matrix of cognition e perché poi dal 2011 poi Clark abbraccia una nuova prospettiva il cosiddetto predictive processing però non ho trattato anche questo per motivi di lunghezza e Clark dice bene io non offro una definizione di cognizione perché perché secondo Clark è impossibile offrire una definizione di cognizione perché la cognizione è un cluster concept o come direbbe Wittgenstein un concetto con somiglianza di famiglia ovvero non possiamo definire tutte le condizioni necessarie sufficienti che tutti i processi cognitivi di tutte le creature cognitivi possibili hanno cioè non possiamo definire tutte queste serie di condizioni che caratterizzano tutti i processi cognitivi in generale perché appunto un cluster concept è una cosa caratterizzata un cluster concept è un concetto che in cui le varie forme di cognizione non possiedono tutte le proprietà di tutte le altre forme di cognizione per cui alcune appunto il concetto di somiglianza di famiglia di Wittgenstein per cui alcune forme di cognizione avranno queste proprietà altre forme di cognizione avranno altre proprietà altri processi in altri animali in altri organismi in altre agenti avranno altre proprietà e così via quindi non riusciamo a individuare questo serie di condizioni necessarie sufficienti individuare questa serie di condizioni necessarie sufficienti che definiscano lo statuto della cognizione viene definito mark of cognition quindi un mark è appunto una definizione il cosiddetto mark of the mental Brentano parla dell'intenzionalità come mark of the mental quindi Clark dice no noi non riusciamo a definire questa cosa e quindi lui appunto abbraccia una posizione cluster concept tuttavia appunto la cognizione è all'interno del suo paradigma della sua posizione ha delle caratteristiche quindi e le funzioni cognitive sono caratterizzate da realizzabilità multipla quindi noi possiamo individuare questi la stessa funzione cognitiva lo stesso cognitive kind può essere implementato da dispositivi cerebrali sintetici biologici diversi e noi dobbiamo individuare due livelli di analisi sia a livello core screen sia di come il sistema si comporta in virtù dei suoi processi cognitivi ma anche di come questi meccanismi cognitivi sono implementati quindi come si differenziano quindi noi dobbiamo sempre tenere presenti i due livelli quindi non è sufficiente attribuire stati mentali o processi cognitivi semplicemente analizzando il comportamento di un agente noi dobbiamo analizzare sia il comportamento sia i particolari meccanismi che implementano e realizzano quel comportamento la cognizione qua scrivo è caratterizzata da un set di dimensioni settate su diversi parametri ora cosa significa questo qua c'è una sintesi forse non si legge benissimo qua ho fatto ho cercato di fare in una in una tabella varie dimensioni cognitive perché le chiamo dimensioni beh possiamo chiamarle anche semplicemente features ma clicchiamo dimensioni perché possono essere settate lungo un continuum un continuum quindi queste sono le freccino per cui queste sono dimensioni cognitive che caratterizzano sia la condizione di per sé presa internalizzata ma anche i tipi di integrazione e ibridazione tra i miei processi cognitivi biologici e i modi con cui li esternalizzo e li estendo con i dispositivi esterni per cui le glue and trust condition quelle della costanza di utilizzo facilità di utilizzo disponibilità fiducia nella risorsa esterna e così via sono solo alcune delle coupling condition e delle cognitive dimension per cui ogni cognitive dimension può avere una rispettiva coupling condition per cui io mi fido ad esempio nei miei processi cerebrali interni sì bene mi fido questa cognitive dimension il grado di fiducia che io in quanto agente cosciente ho nei miei processi può essere esternalizzata può diventare appunto una coupling condition per cui per le aspettate specifiche feature cognitive noi possiamo considerare la loro rispettiva condizione di esternalizzazione come una coupling condition appunto quindi qui abbiamo la costanza di utilizzo la disponibilità la reliability quindi la fidabilità la trust la fiducia e così via ne abbiamo tante cioè perderemo un po' di tempo ad analizzarle tutte comunque questa è l'idea di matrix of cognition quindi ci sono tante dimensioni e tanti tipi di integrazione possibili ora cosa ho cercato di fare io nella mia tesi ho cercato di dare una definizione di cognizione che da una parte rispondesse in parte alle critiche di Adam Seizawa quindi i critici che dicono che c'è necessario un mark of cognition dall'altra ho cercato appunto di individuare una definizione di cognizione che però rientrasse all'interno del mark of cognition account di Clark che considera la cognizione come un cluster concept per cui questa mia definizione che ho elaborato ovviamente basandomi sul contributo di vari autori non è intesa come mark of cognition ma va intesa come una definizione operativa che caratterizza alcuni processi cognitivi che in generale può essere utilizzata per caratterizzare alcuni processi cognitivi non necessariamente tutti ora la definizione qui è in inglese però io ho definito i processi cognitivi come prodotti innanzitutto biologici quindi frutto di un processo evoluzionistico di un organismo prodotti biologici che però possono anche essere frutto di processi evoluzionistici di processi evolutivi sia biologici culturali e tecnologici processi di apprendimento e di sviluppo quindi qui come si forma un processo cognitivo ho definito le condizioni di sviluppo di un processo cognitivo cioè il processo cognitivo è il prodotto di questi processi processi di evoluzionistici biologici culturali tecnologici di sviluppo e di apprendimento la cui funzione propria o funzione nuova è quella di permettere a un organismo di tracciare i cambiamenti nell'ambiente e come attraverso appunto una manipolazione trasformazione e sfruttamento di risorse strutture informazionali che possono essere sia interne che esterne all'organismo ma questa definizione è un po' zigogolata però cercava di cogliere bene sia i contributi appunto di quelli studi che mostravano come la manipolazione di risorse esterne può contare come cognitiva in alcuni casi quando è che la manipolazione di risorse esterne conta come cognitiva beh la risorsa esterna deve rispettare alcune condizioni quindi non è che ogni qualsiasi semplice manipolazione di risorse esterne conta come cognitiva la risorsa esterna deve avere appunto una funzione deve rispettare la funzione propria della cognizione e io ho definito in generale la funzione propria della cognizione come to flexibly track and deal with changes in dynamic and complex environment quindi to individuare mappare e far fronte a cambiamenti in ambienti complessi ora questa è la definizione è la funzione propria dei processi cognitivi in generale chiaramente poi ogni processo cognitivo all'interno di questa macro funzione avrà la sua specifica feature avrà la sua specifica funzionalità all'interno di questa macro funzione per cui la memoria avrà la sua funzione la percezione avrà la sua funzione e così via quindi tutte queste micro funzioni dei vari processi cognitivi possono essere fatti rientrare in generale in questo macro cappello e poi qui io ho definito appunto quali sono le condizioni che permettono a una source esterna di essere appunto cooptata funzionalmente come parte del processo cognitivo quindi questo è stato un po' il mio contributo mi sono rifatto alla nozione di proper function di nozione di funzione propria di Millikan che siccome oggi è l'8 marzo non ho fatto nessun post pubblico però giornata internazionale della donna dei diritti della donna Millikan è una delle filosofie della biologia più importanti più influenti della storia probabilmente del novecento sicuramente a scuola del novecento quindi Millikan è fondamentale io mi sono rifatto alla sua nozione di funzione propria perché definisce quali sono le condizioni che definiscono sul piano biologico una funzione propria per cui il concetto di funzione è molto dibattuto sia in psicologia che in biologia allora Millikan dà una nozione eziologica di funzione propria qualcosa ha una funzione propria se è stato selezionato per svolgere quella funzione se è stato selezionato dalla selezione naturale o se è stato mantenuto da un processo sviluppato per selezione naturale per cui appunto le risorse cognitive esterne possono essere in un certo senso cooptate funzionalmente e acquisire una funzionalità propria nella misura in cui sono integrate ad altri processi cognitivi ora ok ok vediamo qua un po' le domande giustamente ci sono delle domande adesso le sto leggendo un po' tutte oh ce n'è un bel po' adesso le scorro l'ho buttato un po' ok giusto allora Alessandra la prima vorrei chiederti come si posiziona tutto questo come l'emergentismo eh si posiziona nel senso che l'extended view dipende da una posizione emergentista nel senso che dice che appunto ci sono ci sono proprietà emergenti di livello di sistema che non possono essere attribuite a una semplice composizione lineare delle parti quindi capacità o proprietà cerebrali più capacità proprietà di una risorsa esterna ma emerge una proprietà di sistema tale che appunto noi dobbiamo considerare il sistema come un tutto integrato a cui attribuire questa proprietà eh l'emergentismo quindi è uno delle dei contributi uno delle assunti fondamentali e degli ingredienti fondamentali per portare avanti la posizione estesa tuttavia anche nelle più problematiche perché l'individuazione di queste proprietà è quasi impossibile in un certo senso o meglio c'è una sottodeterminazione empirica ovvero è difficile individuare empiricamente attraverso processi sperimentali l'esistenza di queste proprietà per cui se noi diciamo che un sistema di un agente cognitivo più una risorsa esterna istanza di una proprietà emergente a livello superiore ci sono vari modi per definire questa proprietà emergente a seconda del tipo di framework che stiamo utilizzando alcuni usano la dynamical system theory che è una matematizzazione è una teoria matematica che modella appunto il comportamento del sistema e in questo caso quindi la proprietà emergente è una formalizzazione matematica per cui tutt'altro che banale cioè nel senso se noi ci impegniamo ontologicamente nell'esistenza di queste proprietà poi è difficile andarla a individuare empiricamente noi possiamo formalizzare matematicamente l'esistenza di queste proprietà ma poi individuarle empiricamente è molto complesso dopo farò un esempio di una proprietà emergente che non ha bisogno di un formalismo matematico che per essere individuata però l'emergentismo è uno dei punti chiavi ma anche uno dei più problematici curiosità un po' tecnica allora forse vado fuori dal tema quindi sentiti pure libero hai affrontato nel tuo lavoro il problema del concetto di rappresentazione indirettamente allora indirettamente sì nel senso che il concetto di rappresentazione è uno delle elementi fondamentali della cognizione delle teorie che definiscono la cognizione nella mia tesi non l'ho affrontato direttamente perché sarebbe molto problematico ma possiamo fare una breve parentesi qui perché perché lo stesso Clark già nel 97 in questo libro che si chiama Being There Putting Mind World no Putting Brain ma no Brain Body and World Together Again quindi Being There essere lì lui dà appunto una nozione di rappresentazione all'inizio dicevo che le scienze cognitive classiche postulavano i processi cognitivi come processi computazionali quindi computazioni sono operazioni formali e logiche inferenziali su rappresentazioni per cui si pensava appunto noi abbiamo dei simboli che rappresentano porzioni di mondo noi manipoliamo questi simboli manipolando questi simboli noi come se manipolassimo all'interno della nostra testa un modello della realtà e quindi possiamo agire direttamente sulla realtà manipolandolo al nostro interno ora il concetto di rappresentazione allora Clark ci mostra che ci sono varie forme di rappresentazione c'è la cosiddetta full blooded representation quindi un idea che una rappresentazione sia effettivamente un modello mentale interno di una scena ambientale di una ma è più che di una scena di uno stato di cose esterno per cui la rappresentazione è appunto un contenuto diciamo così semantico che si riferisce a qualcosa di altro che ha un'intenzionalità in un certo senso e che rappresenta appunto sta correla in modo sistematico appunto a questo stato di cose esterno ora dice Clark ci sono vari modi per cui esistono le rappresentazioni hanno diversi tipi le rappresentazioni possono essere di questo tipo qui possono essere di tipo distribuito come il connessionismo il connessionismo parla del distributed processing ci mostra come le rappresentazioni non sono esplicite ma sono implicite distribuite lungo una lungo una rete neurale per cui una serie di attivazioni di un pattern di attivazione neurale corrisponde a una rappresentazione anche se non c'è nulla di esplicitamente rappresentato è come se fosse un codice rappresentazionale e Clark parla anche delle cosiddette action oriented representation le action oriented representation sono una via di mezzo tra la rappresentazione intesa in senso classico come modello del mondo esterno e la rappresentazione come che è l'idea di diretto engagement nel mondo Clark ci mostra come una embodied cognitive science una embedded cognitive science consideri le rappresentazioni come qualcosa di molto più dinamico molto più fluido molto più engaged nel mondo nel senso che non è semplicemente un rispecchiamento del mondo esterno ma le action oriented representation sono qualcosa che sia rappresentano il mondo ma anche ci direzionano in un'azione diretta sul mondo è un po' l'idea che cavolo è difficile spiegare questi concetti in modo molto veloce però facciamo un esempio abbiamo pensiamo al al baseball ok il tizio che deve rincorrere la pallina per prendere la palla no cosa sta facendo sta continuamente diciamo così correlando i suoi output i suoi input percettivi e i suoi output comportamentali per cui le scienze cognitive classiche non spiegano adeguatamente qui il comportamento l'idea che la presa della pallina il coordinamento della mia mano e con la scena percettiva della palla che sta arrivando perché le scienze cognitive classiche postulavano un modello della realtà come se noi costruissimo costantemente un modello della pallina è una computazione della traiettoria della pallina questa è l'idea di appunto scienze cognitive classiche le action oriented representation ci dicono che in realtà la nostra rappresentazione del mondo è qualcosa che sia descrive parzialmente il mondo ma allo stesso tempo prescrive una nostra azione sul mondo Clark continua a usare tale concetto nelle sue teorie problemi affermati di rappresentazione sì sì esatto Clark continua a usarle perché ritiene che appunto una teoria della cognizione senza rappresentazione non permette di spiegare quei comportamenti complessi in cui noi siamo distaccati dagli stati del mondo per cui ad esempio la pallina che ci viene addosso abbiamo un continuo un continuo feedback percettivo e quindi abbiamo possiamo dire un action oriented representation ma nel caso di pensiero staccato dalla scena percettiva per cui noi iniziamo a meditare su alcuni problemi in quel caso lì le rappresentazioni sono necessarie e quindi Clark appunto parla di action di representational hungry problems appunto problemi affermati di rappresentazione tuttavia alcuni alcuni correnti delle scienze cognitive come l'attivismo ritengo che sia piuttosto una vestigia concettuale lo so l'attivismo è piuttosto critico io ho studiato molto molto più Clark e quindi tendo a condividere con Clark e secondo me l'attivismo è ancora più problematico della posizione di Clark incapace di rendere conto della natura dinamica e condipendente dei sistemi biologici delle loro interazioni con i propri ambienti hai ragione dici Agostino Marconi appunto a fare una giusta un giusto summary del dibattito cosa ne pensi della questione e in generale del rapporto tra le altre secondo me appunto tra le forie di cognition la embodied cognition è bene o male allora anche qui dipende come si intende ciascuna E nel senso che l'embodied cognition in un senso debole è accettato da tutti in un senso più forte dipende per cui in generale l'idea che la condizione sia incarnata dipende cosa si intende con appunto incarnata se il contributo del corpo è costitutivo per tutti i tipi di processi o soltanto per ad esempio gli aspetti qualitativi per cui magari io posso riconoscere che i nostri processi cognitivi e mentali la nostra esperienza fenomenologica ecco il carattere fenomenologico della nostra esperienza sia costitutivamente corporeo tuttavia è possibile che alcuni processi cognitivi sono indipendenti dall'impedimentazione corporea quindi il contributo del corpo quindi la cosiddetta embodied cognition può essere accettata o più o meno a seconda del tipo di costituzione che va a definire quindi qual è l'influenza che ha questo ruolo del corpo dipende dal tipo di processo che stiamo considerando quindi appunto la embodied cognition è abbastanza accettata però dipende dalle sue sfumature l'embedded cognition anche quella dipende come la intendiamo se la intendiamo come il fatto che la nostra cognizione è situata in un ambiente quindi continuamente trasformata dinamicamente accoppiata dalla scena percettiva che quindi noi dobbiamo inserire nella spiegazione e che quindi le risorse esterne hanno una rilevanza esplicativa ovviamente anche l'embedded cognition è accettata da tutti poi dipende dal significato che vogliamo darle la più problematica sono ovviamente l'extended e l'inactive secondo me l'inactive è ancora più estrema e controverso dell'extended e quindi secondo me l'extended view è in un certo senso c'è una sottodeterminazione empirica tra l'extended e l'embedded cognition ma questo lo volevo spiegare alla fine qui in un certo senso l'evoluzione culturale ha portato le popolazioni umane ad avere una mente collettivamente estesa SNI nel senso collettivamente estesa se pensi alla se parli collettivamente stai però andando nella direzione secondo me della cosiddetta distributed cognition quindi l'idea che un gruppo di persone possa istanziare una mente distribuita su più agenti cognitivi in quel caso si parla di mente appunto collettivamente estesa o di distribuzione cognitiva di group cognition sì cioè in generale appunto qui il problema qual è è che in questo dibattito le sfumature sono tutto cioè le sfumature di significato nella sfumatura di significato sta tutta la differenza e che quindi magari alcune posizioni anche analoge o che grosso modo sono quasi equivalenti in realtà se andiamo a vedere proprio la diciamo così la sfumatura di significato cambiano radicalmente per cui sì in un certo senso la scrittura e il linguaggio ci hanno permesso di offloadare appunto nell'ambiente la maggior parte dei nostri compiti cognitivi e quindi non avevamo bisogno di ricordarci tutto biologicamente e questo ci ha permesso di anche trasformare i nostri processi cerebrali per cui sicuramente anche la produzione culturale e linguistica e la scrittura ha creato una pressione selettiva che ha plasmato le nostre menti in modo da essere menti sempre più ibride e sempre più menti che offloadano nell'ambiente piuttosto che ricordarsi tutto al loro interno però da qui a dire ad esempio parlare di mente collettivamente estesa è accettabile come concetto però ciò non implica ad esempio che l'umanità nella sua collettività è una mente capito no? dipende nel senso dipende dal task cognitivo che consideriamo ad esempio Hutchins questo antropologo cognitivo che nel 95 scrive cognition in the wild questo libro in cui analizza la navigazione analizza come una mi ricordo che tipo di nave forse comunque una nave un'equipe di marinai navigasse questa nave e lui considera la nave come un sistema cognitivo esteso meglio che esteso distribuito quindi una distributed cognition e in quel caso lui considera la nave come una mente collettiva estesa appunto nel senso che il compito cognitivo del tracciare la rotta modificare la direzione e così via è realizzata da un sistema cognitivo distribuito su più agenti cognitivi però appunto in caso di particolari task cognitivi specifici e individuati quindi dipende insomma quindi in un certo senso l'evoluzione culturale ha portato ah ok ha risultato la domanda caro mi dispiace un sacco che tu abbia così pochi spettatori vabbè ma è normale fra un'ora e mezza e mezza stacco guardo ora la live io vedo solo M come nome però forse ho capito chi sei perché ciao grazie per essere qui ci sono pochi spettatori è normale nel senso che io sono poco attivo sia su YouTube che su Instagram quindi il fatto che ci sia pochi spettatori è normalissimo poi questa live la sarò indifferita ci saranno almeno due trecento views spero le faccia il fatto che ci sia pochi spettatori meglio pochi ma buoni no vabbè ci sta nell'ordine delle cose che se così non credi che sia una definizione troppo ampia la mia definizione di processi cognitivi sì sì probabilmente è troppo ampia ti dico io mi rifaccio a Rowlands e insomma i problemi della mia definizione ne sono ben consapevole e ci ho messo molto a capire come scriverla ha preso il difetto ovviamente ogni tentativo di definizione non è esaustivo la mia la mia stessa definizione non pretende di essere esaustive quindi diciamo così si para il culo in quel modo lì purtroppo adesso devo andare però domani mi finirò di vedere la registrazione grazie grazie Ettore Ferro per le tue domande mi sembra che si avvicini all'idea di cognizione di Maturana e di Varela che attivano da firmare i sistemi biologici sono cognitivi la mia definizione no non necessariamente la mia definizione mi rifaccio a Rowlands al suo libro The Body and Mind del 99 Externalization del 2003 e l'ultimo libro del 2010 quindi io mi rifaccio molto a Rowlands anche se poi non abbraccio il suo marco del cognitivo l'idea di autoorganizzazione forse rappresenta un appiglio per approfondire devo studiare meglio Maturana e Varela devo studiare meglio l'inactive cognition dovrei farlo quindi grazie per questi contributi anche molto diciamo così abbastanza esperti sul dibattito sicuramente alcune cose più di me perché l'inactive cognition non l'ho approfondito mi sono stato un po' un po' Alva Noè un po' un po' Susan Hurley ma non Maturana e Varela ancora ok ok bene bene ok andiamo avanti allora quindi con la mia definizione quindi mi sono cercato ho cercato adesso tolgo ciao guido guido in sempre interessanti perfetto allora ok bene allora la mia definizione a cosa serviva a cosa serviva beh alla mia definizione potete trovarci tutti i problemi del mondo sono il primo a essere consapevole che è imperfetta e così via però in un certo senso mi permette di fare cosa mi permetteva di risolvere alcuni problemi della posizione di Clark e di in un certo senso esplicitare la posizione di Clark perché è vero che Clark dice che la cognizione è un processo è un è una ha un carattere è un cluster concept tuttavia nei suoi scritti numerosi paper che cito che cito spesso che cito appunto nella mia tesi in realtà Clark è praticamente legato a questa definizione implicitamente o esplicitamente e bene o male questa definizione riprende molte altre definizioni cercando di darne una sintesi quindi ok andiamo avanti allora la mia definizione quindi si concentra sui processi cognitivi e non sugli stati mentali per cui la mia l'ho definita una process based view che mi ha permesso appunto di di andare di passare dal parity principle quindi vi ricordate quello iniziale l'idea che se una risorsa è una funzione in modo equivalente a una risorsa interna e se giudichiamo cognitivo alla risorsa interna allora dobbiamo giudicare cognitivo anche alla risorsa interna quindi questo era il cosiddetto parity principle e la first wave e la first wave dell'extended view si basava su quest'idea di equivalenza funzionale ora la second wave si basa invece su un concetto di complementarità vediamo la seconda qui a destra nella slide l'idea che nei sistemi cognitivi estesi gli stati esterni i processi esterni non hanno bisogno di replicare e mimare i formati le dinamiche le funzioni dei stati interni e dei processi interni anzi diversi componenti contribuiscono collettivamente a un sistema e possono diversi componenti giocare a ruoli diversi e avere diverse proprietà while coupling in collective and contemporary contribution quindi l'idea che appunto l'idea che la risorsa esterna debba in un certo senso rispecchiare la risorsa interna è sbagliata in realtà appunto devono complementare quando ho fatto l'esempio del calcolo sulla penna pen and paper mi hanno da dire vabbè penna e foglio quindi l'esternalizzazione di un calcolo complesso appunto è chiaro che la carta sì da un certo punto di vista rispecchia ha un'equivalenza funzionale rispetto appunto ai processi cerebrali ma in realtà complementa quei processi grazie a delle proprietà diverse ad esempio i processi interni sono molto più sono semanticamente attivi ma molto più instabili molto più difficili da mantenere la carta invece non è semanticamente attiva ma allo stesso tempo questa sua persistenza del simbolo garantisce una maggiore possibilità di poi recuperarlo no? e quindi di mantenerlo statico lì e così via quindi l'idea appunto è questa cioè il principio di complementarità ci dice noi non dobbiamo noi non estendiamo la mente con processi equivalenti ma con processi complementari quindi in questo modo noi definendo la memoria poi alla fine la mia tesi si è concentrata in parte sulla memoria quindi definendo la memoria come la facoltà di encoding storing and retrieving information noi possiamo esternalizzare la memoria come? non tanto considerando le informazioni del tacquino come ricordi estesi ma considerando una sensory motor integration del tacquino nei miei processi appunto cognitivi di ricordo normali interni in modo da realizzare una nuova forma di ricordo quindi il complementarity principle ci dice che le capacità cognitive estese non sono equivalenti alle capacità cognitive interne sarebbero anche poco interessanti in un certo senso ma anzi realizza una nuova forma di ricordo un nuovo tipo di processo cognitivo che ci permette appunto di che ci permette appunto di avere nuove capacità ora quindi qual è il rapporto tra il parity principle e il complementarity principle perché le due cose non vanno in contraddizione necessariamente anzi io ho distinto tra a priori parity principle allora l'apriori parity principle è l'idea che quando noi analizziamo i processi cognitivi non dobbiamo avere a livello diciamo così come ideale regolativo come approccio epistemologico un veil of metabolic ignorance il veil of ignorance quello ripreso da Rawls in ambito di filosofia politica qui si parla di veil of metabolic ignorance ovvero noi dobbiamo rimanere in un certo senso imparziali sulla possibilità che sia le risorse interne che le risorse esterne possano giocare un ruolo cognitivo e quindi appunto questo ha un ideale questo principio ha un ideale regolativo euristico che orienta la mia analisi dei processi cognitivi orienta la mia analisi nel mio studio empirico mentre la posteriori ripari di principle individua quell'isomorfismo qualora ci sia l'isomorfismo dipende a seconda del livello di dettaglio può essere coarse grained può essere fine grained fine grained cosa sarà ad esempio consideriamo l'idea della hybrid integration quindi l'idea che ci sia ad esempio non so un soggetto ha un trauma cerebrale una parte del cervello viene lesionata questa parte del cervello quindi viene sostituita da un chip o un dispositivo artificiale appunto che viene integrata direttamente ai processi subpersonali cerebrali bene in quel caso possiamo ammettere appunto per ipotesi che il dispositivo cerebrale replichi a livello fine grained quindi ad ampio quindi a elevato livello di dettaglio le stesse funzionalità di quella parte del cervello che va a sostituire in questo caso quindi è legittimo usare un a posteriori fine grained parity principle i critici della teoria della mente stesa ammettono soltanto questo tipo di estensione cognitiva cioè dicono soltanto quell'estensione cognitiva che si realizza a elevato livello di dettaglio e che rispecchia esattamente le capacità cerebrali può essere e lo fa a livello subpersonale quindi senza il medium senza la mediazione della percezione solo in quel caso lì si può parlare di estensione cognitiva solo ammettendo l'idea che un microchip possa effettivamente estenderci la cognizione ed è stato anche fatto su un animale su una ragosta è stato implementato un neurone artificiale ce lo dice Clark in un paper del 2009 e dice è stato implementato un neurone artificiale quindi questo neurone artificiale rispecchia a livello fine grained le stesse funzionalità del neurone biologico e quindi abbiamo un parity principle abbiamo una mente estesa una mente ibrida estesa cosa fa invece il complementary principle il complementary principle dice che l'istanziazione del kind cognitivo del cognitive kind si va a posizionare su un nuovo livello quindi individua in istanzia un higher level cognitive kind per cui appunto questo higher level cognitive kind va considerato sia a livello della macrofunzione quindi sia a livello appunto della macrofunzione della memoria ad esempio per cui ad esempio otto che usa il tacquino in istanzia una nuova forma di ricordo una nuova forma di un nuovo cognitive kind che rientra nel cognitive kind della memoria ma implementato in modo diverso per cui la macrofunzione è la stessa del cervello di Inga però le microfunzioni sono diverse perché otto per poter realizzare quella macrofunzione ha bisogno di specifiche microfunzioni come ad esempio l'accesso percettivo al tacquino e queste microfunzioni sono rilevanti perché basta che si spenga la luce e otto non può accedere a quell'informazione e che quindi il suo processo viene compromesso e così via quindi non ha senso fare come facevano Clark e Chalmers inizialmente nel paper del 98 in un certo senso occultare la dimensione percettiva perché la loro la occultano perché loro dicono sì va bene otto accede percettivamente al ricordo però in realtà dal punto di vista del sistema è un recupero introspettivo più che percettivo questa posizione io l'ho criticata l'ho criticata e ho cercato di l'ho criticata sì ho analizzato la strategia argomentativa la strategia argomentativa di Clark perché perché i critici dicevano vabbè il ricordo di otto il ricordo di inga sono radicalmente diversi perché mentre la percezione ha tutte delle caratteristiche e anche delle potenziali disfunzionalità l'introspezione non ha questi problemi allora cosa dico cosa dice Clark Clark dice attenzione sia l'introspezione che la percezione hanno delle problematicità nel senso che ad esempio è vero che otto quando c'è buio non può accedere al suo ricordo ma allo stesso modo inga quando è ubriaca non può accedere al suo ricordo in modo introspettivo per cui a seconda delle condizioni il grado di accesso di accessibilità a quel ricordo a quell'informazione cambia e Clark ci dice non è che semplicemente perché il modo con cui otto accede al suo ricordo è diverso da quello di Inga allora dobbiamo considerare quel processo come non cognitivo come non mentale perché lo stesso processo può essere implementato in modo diverso e quindi dice ad esempio questo è il modo che Clark usa utilizzando la Microsoft Microsoft Account per rispondere a questa critica ora sono bello stanco a dire la verità comunque siamo già siamo ancora all'inizio praticamente allora Adams e Zawa criticano il marchio del cognitivo dicendo che proponendo una definizione di cognizione dicendo che la cognizione deve coinvolgere intrinsic content cosa significa intrinsic content? significa che loro considerano l'intenzionalità come la caratteristica fondamentale del mentale e il fatto che un nostro stato mentale una rappresentazione un contenuto mentale può riferirsi a qualcosa di altro e dicono siccome il taccuino di otto non ha intenzionalità intrinseca ma ha un'intenzionalità derivata perché il simbolo presente sul taccuino di otto viene interpretato da una nostra attività cerebrale e cognitiva e che quindi di per sé non è cognitivo il fatto che il taccuino abbia un'intenzionalità derivata sullo squalifica dell'essere effettivamente una risorsa cognitiva e loro dicono che soltanto i neuroni appunto soltanto le capacità neurali cerebrali hanno questa intenzionalità derivata Adams e Zawa in parte si rifanno a Searle questo è interessante perché come anche ne parlo nel video con Dennett Adams e Zawa in certo senso si rifanno ad alcuni assunti fondamentali di Searle mentre Clark risponde a queste critiche rifacendosi invece a Dennett quindi abbiamo Sir contro Dennett e Dennett contro Sir nel dibattito degli anni 70 80-90 mentre nel dibattito anni 2000 sulla teoria della mente stesa rifacendosi da due assunti fondamentali di contraposti Clark risponde ad Adams e Zawa rifacendosi a Dennett ora come fa Clark a rispondere alla cosiddetta capping constitution fallacy cioè quindi l'idea che l'accoppiamento di due risorse su una relazione causale non possa essere anche una relazione costitutiva il problema è che Adams e Zawa basano la loro nozione di causa la loro nozione di costituzione su dei presupposti ontologici non per forza fallaci ma comunque discutivi diciamo così cioè loro ritengono che la causalità sia un processo diacronico quindi sviluppato nel tempo mentre la costituzione sia un processo necessariamente sincronico ovvero un processo in un certo senso astratto dalle condizioni temporali tuttavia questa nozione di costituzione come una relazione sincronica è il tipico modo di intendere la costituzione in filosofia analitica cioè in filosofia analitica si dice ad esempio gli atomi della sedia costituiscono la sedia in un modo sincronico cioè c'è una perfetta overlapping spazio-temporale tra le parti e il tutto e quindi la costituzione è un processo è uno stato asincronico una relazione scusate è una relazione asincronica oh dio mi sto impappinando la costituzione nella filosofia analitica nereologica appunto della relazione di costituzione tra gli atomi della sedia e la sedia c'è una perfetta sovrapposizione spaziale e materiale ed è asincronica in certo senso non è asincronica scusate è atemporale o sincronica sincronica vuol dire atemporale in un certo senso per cui è come se Adano Senzawa applicassero al dibattito sui processi cognitivi una nozione di costituzione che però è adeguata per la composizione materiale per la material constitution e ora qui in realtà secondo me è troppo complesso fare in live questa cosa cioè bisognerebbe anche solo per queste nozioni di causa di costituzione bisognerebbe fare una live a parte perché anche il formalismo è molto complesso la soluzione qual è? la soluzione è abbracciare una diachronic process constitution quindi l'idea che vediamo no diachronic process constitution quindi l'idea che e qua ci risponde Manery no? il problema di Adam Seazawa è di attribuire all'autore della mente estesa della cognizione estesa un'immagine fallace che è l'immagine del contagio cognitivo cioè Adam Seazawa è come se dicessero ah c'è il mio cervello che è intrinsecamente cognitivo e c'è il notebook il taccuino che è intrinsecamente non cognitivo loro dicono non è che la mia semplice relazione causale col taccuino trasforma la natura intrinseca del taccuino in qualcosa di cognitivo perché ciò che è cognitivo rimane cognitivo ciò che non è cognitivo rimane non cognitivo questa è la posizione di Adams e Aizawa ora la risposta qual è? la risposta è che questa relazione va intesa in modo dinamico e su un livello superiore ovvero x is the manipulation of the notebook se consideriamo il processo x the manipulation of the notebook quindi la manipolazione del taccuino coupled to y quindi accoppiata a y i processi cerebrali together constitute z z il processo di ricordo quindi la relazione cioè tra il mio taccuino e i miei processi cerebrali c'è una relazione causale intralivello perché se noi consideriamo i vari livelli di astrazione o livelli del meccanismo la relazione tra me il taccuino è una relazione causale intralivello ma tra questa relazione causale intralivello da forma da luogo a una relazione costitutiva interlivello e questa relazione costitutiva intralivello fa sì che il processo il processo cognitivo esteso abbia delle proprietà ecco che qui viene l'emergenza della domanda che non era stata posta abbia delle proprietà emergenti quindi il processo sistema z ha delle proprietà emergenti che né il taccuino né il cervello possiedono l'emergenza è un progetto tanto banale quanto complesso nel senso che le singole molecole d'acqua non sono bagnate ok ma nel complesso l'acqua è bagnata l'essere bagnata il bagnare o l'essere liquido non sono la proprietà delle singole molecole ma è una proprietà emergente di sistema ecco la stessa cosa dice l'extended view va applicata ai processi cognitivi estesi per cui esistono delle proprietà cognitive estese che non sono attribuibili alle singole interazioni tra le componenti e che si realizzano a un livello superiore appunto il processo di ricordare esteso di otto ok quindi ritornando all'intrensive content Adams e Zawa dicono bene l'intenzionalità derivata cioè il taccuino ha un'intenzionalità derivata ovvero i simboli non sono dotati di attività semantica come le nostre rappresentazioni mentali sono statiche sono lì noi possiamo accedervi intrasuggettivamente pubblicamente su un medium esterno che però preso di per sé è passivo non è qualcosa di appunto integrato veramente ai nostri processi cerebrali qual è la risposta? beh la risposta sta nelle stesse parole di Adams e Zawa loro stessi però ammettono che i nostri processi cognitivi non hanno necessariamente tutti dei contenuti intrinseci anche qui mi rendo conto che parlare di questi argomenti senza approfondirli approfondirli ciascuno di essi è molto difficile ma quindi se avete delle domande specifiche su queste definizioni fatemele pure anche nei commenti perché è indifferita quindi loro dicono bisogna ammettere che non è chiaro to what extent quindi a quale a quale livello to what extent non so tra l'altro l'italiano cavolo quindi non è chiaro to what extent each cognitive state of each cognitive process must be involved in the right content quindi loro ammettono la possibilità che alcuni contenuti e alcune rappresentazioni dei processi cerebrali non hanno un contenuto intrinseco ma allora dicono i teorici estesi allora voi siete allora voi siete siete utilizzate un double un doppio standard perché perché se voi ammettete che i processi cerebrali non hanno necessariamente esclusivamente contenuti intrinseci allora lo stesso vale per i processi cognitivi estesi in cui c'è una parte di contenuto intrinseco e una parte di contenuto non intrinseco una parte di contenuto intrinseco sarà quella presente nel cervello la parte di contenuto estrinseco è quella presente nel taccuino tuttavia l'integrazione di queste risorse informazionali di queste rappresentazioni è tale che l'importante è che a livello emergente a livello di sistema si realizza un processo cognitivo esteso in cui non tutti i componenti hanno un contenuto intrinseco tuttavia è sufficiente a qualificare come cognitivo il processo cognitivo esteso ora qui arriviamo alla famosa differenza tra embed e extended view allora aspetta qua lo faccio da qui che è meglio ok quindi embed e extended view allora Rupert è un altro dei critici fondamentali della teoria della mente estesa e lui ci dice bene voi dite che la risorsa esterna assume quindi uno statuto cognitivo o comunque costitutivo al processo cognitivo esteso io dico che questa posizione non è necessaria lui dice noi possiamo abbracciare la cosiddetta embedded view o embedded cognition che dice che sì alcuni processi cognitivi dipendono fortemente dall'utilizzo di risorse esterne ma queste risorse esterne semplicemente supportano casualmente il processo senza realizzarlo costitutivamente per cui l'embedded view ammette che la risorsa esterna vada inclusa nella spiegazione della nostra performance cognitiva quindi la risorsa esterna ha explanatory relevance quindi ha rilevanza esplicativa noi dobbiamo includerla nella spiegazione del processo cognitivo tuttavia tuttavia appunto la risorsa esterna non per questo dobbiamo impegnarci in un suo statuto ontologico in quanto cognitiva quindi noi possiamo ammettere una rilevanza esplicativa della risorsa esterna possiamo dire che per capire come Otto fa a ricordare dobbiamo includere nella spiegazione l'utilizzo del taccuino ma non siamo obbligati a utilizzare un impegno ontologico vizioso comunque superfluo quello di attribuire uno status mentale al taccuino lui dice noi dobbiamo preferire questa posizione perché dal punto di vista metodologico è conservatrice ma ha lo stesso potere esplicativo dell'extended view ed evita appunto un impegno ontologico superfluo potenzialmente problematico l'extended cognition quindi per rispondere a questa critica deve riuscire a postulare l'esistenza di proprietà emergenti cognitive di livello di sistema perché solo in questo modo riuscirebbe a rispondere adeguatamente alla embedded view perché l'idea che sul piano esplicativo dobbiamo includere anche la risorsa esterna è condivisa anche da Rupert e inoltre cosa interessante da un punto di vista esplicativo epistemologico e empirico c'è una sottodeterminazione empirica tra le due spiegazioni ovvero noi possiamo spiegare otto come un caso di embedded cognition così come possiamo spiegare otto come un caso di extended cognition facciamo fatica a individuare una differenza da un punto di vista empirico perché? perché da un punto di vista empirico la sfumatura tra rapporto causale e rapporto costitutivo che è una sfumatura che può essere formalizzata dal punto di vista ontologico non è empiricamente riscontrabile non è empiricamente verificabile e quindi appunto c'è una sottodeterminazione empirica cosa vuol dire che due teorie sono c'è una sottodeterminazione empirica tra due teorie è che i dati empirici sono sufficienti cioè allora è che entrambe spiegano in ugual modo no scusate la teoria A e la teoria B sono sottodeterminati sono c'è una sottodeterminazione empirica delle due teorie vuol dire che lo stesso dati empirici i dati empirici non sono sufficienti a legittimare una al posto dell'altra cioè dati questi dati empirici i dati empirici non ci permettono di preferire una teoria rispetto all'altra e quindi quando nella scienza in generale in filosofia della scienza quando tra due teorie c'è una sottodeterminazione empirica come si fa a sceglierla beh ci sono altri criteri altri criteri epistemici per cui diciamo così il modo con cui una teoria affitta i dati adoro affitta e il modo in cui una teoria affitta i dati non è l'unico criterio quindi il criterio empirico non è l'unico perché magari una teoria affitta i dati in un modo più economico una teoria affitta i dati in un modo più elegante una teoria affitta i dati in un modo più meno problematico facendo meno assunzioni e quindi in questo modo ci sono delle virtù epistemiche per cui noi favoriremo una teoria rispetto a un'altra e Rupert dice bene da un punto di vista empirico c'è una sottodeterminazione empirica tra l'embedded cognition e l'extended cognition però la mia teoria è meglio perché perché evita un impegno ontologico eccessivo superfluo e non necessario ed è appunto più in linea con tutte le ricerche contemporanze tutte le ricerche delle scienze cognitive perché l'extended cognition l'idea che ci siano processi cognitivi estesi è diciamo così una novità una novità dal punto di vista appunto nel dibattito è una novità tutt'altro che accettata per cui la maggior parte del corpus di conoscenze scientifiche che abbiamo sulle scienze cognitive presuppongono una posizione internalista ovvero presuppongono che le capacità cognitive siano realizzate nel cervello e quindi dice dice Rupert che senso andarci a impelagare in una scienza cognitiva estesa quando questa non ci dà maggior potere esplicativo e quando questa è è solo un rischio si espone solo a delle criticità dei problemi quando possiamo star ben al sicuro all'interno dell'internalismo e a mettere sul piano esplicativo una posizione embedded questa è una sfida appunto abbastanza radicale alla posizione extended e che quindi appunto le posizioni extended hanno dovuto rispondere lo stesso Clark ammette in un paper del 2011 che c'è una sottodeterminazione empirica tra le due teorie quindi ok quindi bisogna andare a trovare quelle virtù epistemiche che giustificano l'extended view rispetto all'embedded view e non sono facili da trovare queste virtù epistemiche per cui un modo per giustificare l'extended view usato da Clark che è quello che ho usato anche io in base alla mia definizione di processi cognitivi è che le risorse esterne possono essere selezionate o mantenute in un in un processo esteso per cui appunto nella misura in cui la risorsa esterna non solo rispetta le coupling condition ma attraverso un processo di selezione culturale per cui io inizio a sviluppare i miei compiti cognitivi strutturandoli sempre in relazione a una risorsa esterna si può dire che c'è una selezione di una funzione propria di quella risorsa esterna e quindi utilizzando dei criteri evoluzionistici appunto Clark dice beh in alcuni casi appunto la risorsa esterna seppur su un piano diciamo così empirico sembrano equivalenti a una posizione embedded siamo legittimati a considerare quella risorsa esterna come parte del nostro processo perché è diventata parte appunto della nostra routine del modo in cui noi effettivamente realizziamo quel task cognitivo quindi o ci si appella appunto all'esistenza appunto di un processo di selezione oppure appunto all'idea di proprietà emergenti a livello di sistema però ci sono vari modi per legittimare questa proprietà la Dynamical System Theory qua ci sono le citazioni di Palermo poi metto tutta la bibliografia in descrizione ovviamente del video appunto la Dynamical System Theory offre un formalismo matematico che ci fa considerare ci fa studiare l'agente cognitivo accoppiato capo alla risorsa esterna come un unico sistema esteso qual è il problema? è che il formalismo matematico in un certo senso può ricadere in una posizione meramente esplicativa può ricadere qua in una dimensione puramente esplicativa per cui a meno che non abbiamo un impegno ontologico su quelle strutture matematiche come qualcosa che mappano veramente qualcosa della realtà e non semplicemente una spiegazione una modalizzazione della realtà capiamo che siamo ancora potenzialmente nella posizione embedded quindi non riusciamo ancora a favorire l'embed sull'extended Clark si approccia al computazionalismo e infine voglio citarvi questo esempio i Sensory Substitution Devices perché sono molto molto interessanti i Sensory Substitution Devices e offrono un chiaro esempio in cui una risorsa una risorsa esterna contribuisce attivamente a realizzare una proprietà emergente a livello di sistema ora cosa sono i Sensory Substitution Devices appunto device di sostituzione sensoriale ok questi device possono essere spiegati o in termini embedded o in termini extended in termini embedded vuol dire che i processi cognitivi sono interni e la risorsa semplicemente offre un ruolo causale a questi a questi processi allora come funzionano funzionano appunto già dagli anni 60 ci sono i primi prototipi di questi dispositivi quando una persona cieca appunto non vede perché magari ha un danno agli occhi o al nervo ottico bene però ha la cortezza visiva intatta bene questo è il presupposto importante cosa succede se questa persona cieca utilizza un Sensory Substitution Device e si può farlo in vari modi cosa fa il Sensory Substitution Device il Sensory Substitution Device è dotato di una telecamera questa telecamera acquisisce gli input percettivi dall'ambiente ad esempio questa X vediamo trasforma questo input percettivo attraverso un trasduttore trasforma l'informazione visiva in un'informazione tattile per cui questa informazione tattile viene poi applicata sulla lingua dell'agente oppure sul dorso anche sulla lingua quindi l'agente cosa succede la persona cieca riceve una stimolazione tattile sulla lingua ora i Sensory Substitution Devices fanno quello che il bastone per il cieco faceva all'inizio di questa presentazione che vi ho fatto cioè il bastone del cieco cosa fa? è un rapporto tattile con il mondo ma che ci permette di avere accesso un processo percettivo visuale al mondo ora nel caso del cieco è solo una metafora perché il cieco comunque ha una metafora fino a un certo punto nel senso che il cieco effettivamente fa un'esperienza tattile del mondo ma che lo orienta in modo visuale qui ci sono due casi del Sensory Substitution Devices i Sensory Substitution Devices possono essere usati in modo passivo o in modo attivo ovvero se il soggetto non manipola la camera lui continuerà a ricevere solo e soltanto output tattili sulla lingua e farà semplicemente esperienza di output tattili quindi se il soggetto si relazioni in modo passivo al device quindi non c'è un periodo di active training non sviluppa competenze nella relazione col device e c'è una relazione monocausale di relazione tra il device e l'agente per cui il device manda degli input all'agente fine c'è una relazione monocausale monodirezionale e l'agente in questo caso non sviluppa proprietà emergenti di sistema continua a ricevere semplicemente degli input tattili sulla lingua e nient'altro non acquisisce nuove competenze non acquisisce nuove capacità non acquisisce nuove esperienze del mondo semplicemente diventa inutile cosa succede nel caso di active usage di active training beh in questo caso il soggetto manipola la telecamera quindi la telecamera riceve gli output percettivi il soggetto riceve da questi output percettivi degli output alla fine tattili sulla lingua perché il dispositivo trasforma questi output visuali in output tattili ma il soggetto manipolando la telecamera riesce ad acquisire delle competenze di integrazione e correlazione sensomotoria per cui il soggetto riesce ad allenarsi e a in certo senso appunto attraverso la manipolazione è difficile da spiegare attraverso la manipolazione attiva della telecamera il soggetto acquisisce una nuova capacità ovvero il soggetto riesce a correlare i propri movimenti con il feedback della telecamera questo feedback è trasformato in un feedback tattile e cosa succede? attraverso la cross-modal plasticity quindi attraverso la plasticità cross-modale della corteccia visiva la corteccia visiva inizia del cervello inizia a processare gli input tattili in modo visuale questo è pazzesco praticamente cosa succede? se il soggetto manipola attivamente la telecamera e si allena a un certo punto farà un'esperienza visiva della scena quindi lui continua a ricevere degli output tattili sulla lingua tuttavia grazie all'allenamento attivo e grazie a questa manipolazione attiva grazie a un processo di continuous reciprocal causation quindi di continuo feedback loop tra gli input che riceve dal dispositivo e gli output comportamentali del soggetto che manipola la telecamera attraverso questa correlazione sistematica il soggetto acquisisce una nuova esperienza perché? perché attraverso la cross-modal plasticity della capacità cerebrale attraverso una plasticità cerebrale di fatto il soggetto acquisisce una nuova esperienza ovvero il soggetto non fa più esperienza dell'input tattile sulla lingua ma fa un'esperienza visiva della scena e il soggetto vede è abbastanza pazzesca sta cosa il soggetto vede quindi così come il cieco non è che semplicemente tocca un bastone ma vede attraverso il bastone così come io vedo attraverso le mie lenti a contatto e non faccio esperienza delle lenti a contatto ma faccio esperienza attraverso le lenti a contatto allo stesso modo il soggetto che si è impegnato attivamente in un'acquisizione di un processo di apprendimento in questo tipo di allenamento il soggetto vede attraverso il device quindi il device diventa transparent equipment diventa trasparente all'utilizzo e emerge una nuova proprietà appunto la proprietà fenomenologica dell'esperienza visiva e non è semplicemente una capacità un'esperienza fenomenologica ma è anche una vera e propria nuova capacità comportamentale perché il soggetto può quindi orientarsi nell'ambiente può quindi fare giudizi percettivi può giudicare quello che vede ovviamente non vede come la nostra normale visuale è un visuale in bianco e nero comunque in una scala di grigi e con un basso livello di dettaglio quindi il soggetto non è che è una visuale completa della scena tuttavia questa capacità di appunto cross model plasticity è a mio modo a vedere straordinaria è pazzesca si parla di distal attribution attribuzione distale perché? perché il soggetto non percepisce più l'input sulla lingua ma percepisce fa un'esperienza visuale affinché il soggetto ritorna a percepire l'input sulla lingua invece che vedere la scena deve concentrare la propria attenzione sullo stimolo sulla lingua vedete qui in basso qui in basso metto sempre la bibliografia Baccherita e Kersel hanno un articolo scientifico che parla di questa cosa chi investe in farina farina è il mio correlatore farina è il mio correlatore ma appunto mi ha fatto scoprire questi sensor resolution devices e lui si è occupato proprio di questi sensor resolution devices come un esempio di extended cognition qua vabbè non sto a spiegare nel dettaglio tutte le cose del velo cerebrale però questo è un esempio diciamo forse quasi l'unico in modo così lampante e così chiaro anche da buddhisti delle ricerche scientifiche di caso di extended cognition che non è riducibile all'embedded cognition perché in questo caso non possiamo più parlare di due sottosistemi che entrano in una relazione di input e output ma di un unico sistema integrato agente più device che si relaziona all'ambiente che fa esperienza dell'ambiente che ha nuove capacità comportamentali nuova capacità di azione sull'ambiente in virtù proprio di un'integrazione per cui non avrebbe senso spiegare queste capacità come una relazione tra il soggetto e il device proprio perché grazie all'apprendimento grazie al processo di apprendimento grazie appunto alla plasticità neurale del soggetto sono diventati un tutto integrato e tutto integrato sia da un punto di vista esplicativo ma anche da un punto di vista ontologico perché la proprietà del sistema appunto la proprietà emergente del sistema ovvero la capacità di fare esperienza fenomenologica visiva è dovuta appunto all'integrazione tra i due sottosistemi e quindi questo è il caso più lampante che può permetterci di rispondere all'embedded cognition ora qui ci sarebbe molto altro da dire però diciamo che questo è uno schema che ho fatto e qua appunto durante la live ho parlato di estensione corporea e perché ci sono vari tipi di estensione estensione cognitiva estensione percettiva quello di adesso se essere solution devices possa essere considerato un'estensione percettiva più che cognitiva anche se a seconda della definizione di cognizione che diamo può rientrare o meno nella mia definizione di cognizione rientra anche l'esensore solution device questo qui è Stellark Stellark è un performer australiano un artista che utilizza questo brazzo meccanico come una una protesi estesa del suo corpo nella mia metesi ho trattato anche il processo le caratteristiche appunto della dell'estensione corporea quali sono le condizioni di estensione corporea ma andrei un attimo un po' fuori tema cioè non un po' fuori tema però dovrei iniziare tutto un nuovo un nuovo capitolo della della cosa che mi fa un po' fermo mi fa un po' non so sono un po' stanchino per farlo quindi magari faccio una breve sintesi di alcune cose ok quindi torniamo a noi torniamo a qua va bene quindi nella mia testa io defini faccio una una chiusura finale una chiusura finale e poi concludo la live perché sono bello stanco e sono due ore che parlo interrottamente allora ok facciamo questo sì facciamo questo common sense functionalism vabbè l'ho già detto in realtà queste cose qua no facciamo questo facciamo il dilemma di Sprevac ok facciamo il dilemma di Sprevac quindi il dilemma di Sprevac è simpatico il dilemma di Sprevac allora ok ok qua dilemma di Sprevac allora abbiamo parlato abbiamo iniziato appunto questo live parlando del funzionalismo e ho parlato del common sense functionalism di Clark ora il common sense functionalism di Clark è molto criticabile è criticato e io stesso lo abbandono nella mia tesi perché abbiamo detto il common sense functionalism ci permette di individuare stati mentali sulla base di una ascrizione di stati mentali sulla base del comportamento di un agente quindi noi normalmente quotidianamente attribuiamo stati mentali alle altre agenti sulla base del loro comportamento quindi si parla di coarse grained level of analysis quindi il livello di analisi coarse grained noi non sappiamo quali sono i meccanismi cerebrali in atto in quella persona quando gli ascriviamo il comportamento del dolore quando gli ascriviamo lo stato mentale della credenza e così via noi lo facciamo sulla base del comportamento ora Clark dice per individuare stati mentali estesi è sufficiente un coarse grained functionalism tuttavia cosa fa Clark per giustificare le sue posizioni spesso si appella a degli esperimenti mentali che in un certo senso non sono giustificati usando il common sense functionalism ovvero lui si appella spesso alla cosiddetta martial intuition la martial intuition è l'idea che noi possiamo attribuire uno stato mentale a un agente a un agente a un marziano ok martial intuition vuol dire questo noi possiamo immaginare un marziano un extraterrestre un alieno che ha gli nostri stessi o stati mentali analoghi ai nostri come ad esempio la credenza con un'implementazione diversa quindi magari con un sistema corporeo o cerebrale diverso dal nostro e questo appunto è l'esempio classico che il funzionalismo usa per criticare l'identity theory ovvero l'idea che gli stati mentali corrispondano e coincidono con gli stati cerebrali lui dico non è così perché allo stesso higher level property lo stesso higher level capacity quella mentale può essere incrementata da diversi sostrati materiali bene quindi Clark si appella spesso alla martial intuition perché perché appunto per rispondere ad esempio alla critica che Otto ricorda attraverso la percezione per dire vabbè il fatto che Otto ricorda attraverso la percezione è perfettamente legittimo perché noi possiamo immaginare un marziano che per ricordare accede percettivamente ai propri ricordi o immaginiamoci ad esempio Terminator Terminator ha questa visuale di realtà aumentata per cui vede una scena percettiva e sulla scena percettiva acquisisce delle informazioni Terminator può ricordare delle scene passate recuperando quella scena percettiva per cui dice Clark il fatto che il nostro ricordo sia realizzato implementato attraverso la percezione non squalifica non squalifica quel ricordo da essere genuinamente un ricordo dall'essere genuinamente uno stato mentale per cui Clark si appella appunto alla machine intuition per giustificare il fatto che alcune forme di ricordo alcune forme cognitive possano integrare la percezione al suo interno ok qual è il problema è che noi non possiamo attribuire al marziano all'ipotetico marziano appunto uno stato mentale semplicemente sulla base di un common sense functionalism perché noi riusciamo ad attribuire uno stato mentale sulla base del common sense functionalism soltanto ad altri agenti umani perché è soltanto quegli altri agenti umani che noi condividiamo una forma di vita come direbbe Wittgenstein è soltanto sulla base di questa forma di vita è soltanto sulla base dei nostri presupposti culturali condivisi che noi attribuiamo stati mentali intenzioni agli agenti umani e noi lo facciamo appunto intuitivamente perché abbiamo sviluppato questa capacità che viene definita theory of mind teoria della mente Tom per cui appunto noi i bambini verso i 5-6-7 anni forse 5-6 anni credo iniziano appunto a sviluppare una teoria della mente abbastanza elaborata abbastanza complessa da attribuire stati mentali agli altri in modo complesso e flessibile quindi qual è la mia critica è che il common sense functionalism di Clark non è sufficiente a giustificare la posizione extended per vari motivi primo tra tutti il common sense functionalism ovvero l'idea che gli stati che le nostre folk attribution quindi la nostra attribuzione intuitiva agli stati mentali non ammette che gli stati mentali siano implementati anche attraverso processi percettivi è una cosa molto intuitiva molto controintuitiva ricordiamoci che il common sense functionalism si basa proprio su questo sul common sense quindi sulle nostre folk intuition sulle nostre intuizioni popolari per cui appunto questo innanzitutto è il primo punto il common sense functionalism è internally biased quindi non ammette che la mente si estenda ma tende ad assumere implicitamente una posizione internalista inoltre è troppo liberale cosa vuol dire troppo liberale che potenzialmente tende ad attribuire stati mentali in modo in modo arbitrario comunque in modo non legittimo non giustificato dal punto di vista scientifico inoltre appunto il common sense functionalism non riesce a individuare dei cosiddetti natural kind perché? perché Clark e Chalmers nel paper del 98 dicono bene noi possiamo attribuire a 8 un ricordo un stato di ricordo esteso un stato mentale esteso e che è qualcosa di simile a un natural kind ora mi rendo conto che ogni ogni concetto che cito servirebbero libri e libri per definirlo anche il concetto di natural kind è complesso comunque un natural kind spesso viene definito come un relata in delle leggi di natura oppure qualcosa che permette di fondare una induzione empirica di successo queste sono tutte definizioni diverse a seconda della della prospettiva che stiamo utilizzando in filosofia della scienza tuttavia appunto attribuire appunto il tacquino di 8 una forma di ricordo esteso come una sorta di natural kind è molto problematico e il nostro common sense il nostro senso comune non è uno strumento utile o potente nella scienza per individuare i natural kind quindi se non è nella scienza in generale non lo è a maggior ragione nemmeno nelle scienze cognitive infine arriviamo al cuore della questione e poi andiamo a letto il common sense functionism non permette di risolvere il dilemma di Sprevac che cos'è il dilemma di Sprevac ora il dilemma di Sprevac è questo Sprevac ci dice bene se utilizziamo la posizione di Clark la posizione di Clark è fallace perché perché noi possiamo immaginare sempre una qualsiasi alieno che al suo interno all'interno della sua testa realizza i processi più strani noi possiamo immaginare un alieno con all'interno della sua testa un calendario Maya un calendario Maya complesso che ci permette di pensare a tutti i futuri giorni in termini di calendario Maya ma questo è sempre assurdo e dice bene siccome può esistere un alieno con questo tipo di risorsa cerebrale per coerenza la teoria della mente stesa direbbe che un agente umano collegato coupled a un dispositivo Maya diventa una mente stesa e per cui appunto dice Sprevac se è sufficiente un coupling tra un agente cognitivo e una risorsa esterna ed è sufficiente immaginare che un alieno possa istanziare in modo cognitivo in modo cerebrale quello stesso coupling quello stesso sistema all'interno del suo cervello abbiamo creato la formula per immaginare qualsiasi forma di estensione cognitiva anche la più assurda per cui appunto io posso immaginare un qualsiasi forma di assurda di coupling cognitivo e noi saremmo in questo modo Sprevac cerca di portare la teoria dell'extended condition a una riduzione d'absurdo ora qual è il problema del dilemma di Sprevac è che il dilemma di Sprevac in un certo senso innanzitutto misinterpreta alle coupling condition per cui non è detto che le coupling condition reggano tra me e una qualsiasi risorsa esterna perché ricordiamo che le coupling condition non sono semplicemente quelle delle blue and trust condition ma sono tutte quelle dimensioni di integrazione che vi ho mostrato quindi sono molte è difficile rispettare tutte innanzitutto questo poi noi possiamo anche immaginare l'alieno più pazzo del mondo l'alieno che al suo interno ha una centrale nucleare ok ma questo ma questa è una mossa illecita la parte di Sprevac è una mossa illecita perché perché non è che immaginando la cosa più assurda all'interno della testa dell'alieno questa magicamente si trasforma in una risorsa cognitiva perché perché la risorsa dell'alieno sarà una risorsa cognitiva caso per caso noi non possiamo postulare un alieno fantomatico assurdo per portare all'assurdo la posizione extended dell'extended cognition perché appunto se l'extended cognition quindi il caso di ibridazione tra un agente cognitivo umano è una risorsa esterna sia il caso dell'alieno vanno giudicati caso per caso come non certo attraverso un common sense functionalism perché il common sense functionalism non ci permette né di spiegare l'una né di spiegare l'altra perché non sappiamo certo come funziona il sistema culturale dell'alieno non sappiamo certo qual è la sua forma di vita e così via quindi non possiamo attribuire uno stato mentale steso o interno all'alieno col common sense functionalism per cui dovremmo usare un evolutionary functionalism l'evolutionary functionalism che è quello appunto che ho utilizzato nella mia definizione dei processi cognitivi individui i processi cognitivi sulla base di una type individuation ovvero così come il processo digestivo può essere implementato da diversi da diversi processi metabolici o da processi processi biologici ok per cui c'è una realizzabilità multipla di quel processo noi non dovremmo individuare quel processo sulla base di appunto sulla base di un common sense individuation sulla base di quei ruoli causali e funzionali che la nostra folk theory individua ma lo faremo sulla base appunto di un processo evoluzionistico ovvero noi ascriveremo a quel processo digestivo sto facendo le analisi con l'analogia con il processo digestivo noi ascriveremo a quel processo digestivo una funzione digestiva e quindi rientrerà nel kind di gestione solo sulla base della sua funzione solo sulla base del fatto che quel processo è stato selezionato evoluzionisticamente per realizzare quella funzione e qual è quella funzione? beh nel processo digestivo possiamo dire possiamo fare una type individuation del processo digestivo definendolo come quel processo che ci permette di estrarre energia dall'ambiente e assimilarla all'interno dell'organismo banalmente quindi noi riusciamo a dare quindi attraverso un evolutionary functionalism riusciamo a fare una type individuation dei cognitive kind individuando la loro funzione per cui la memoria avrà quella cognitive kind la percezione avrà quell'altro tipo di cognitive kind e così via riusciamo a individuare una realizzabilità multipla di questo sistema perché possiamo ammettere diverse storie evoluzionistiche che ammettono diversi tipi di sistemi e possiamo individuare sia le micro funzioni che le macro funzioni per cui l'alieno ad esempio avrà il nostro stesso processo del ricordare quindi avrà la stessa macro function il stesso cognitive kind del ricordo però le sue micro funzioni saranno diverse ci saranno diverse implementazioni di quel processo diverse realizzazioni materiali diversi meccanismi all'opera ma questo non è un problema perché l'importante appunto è come abbiamo detto dobbiamo studiare il processo a due livelli di analisi sia macro function quindi il comportamento del sistema a livello macro che le micro function quindi l'implementazione specifica dei meccanismi che realizzano quel particolare cognitive kind ok quindi il dilemma di sprevo in un certo senso viene superato per cui se da una parte la posizione di Clark non riesce a risolvere il dilemma di sprevo che il dilemma di sprevo viene superato utilizzando un evolutionary functionalism e basta direi perché sono veramente sfinito ci sarebbe da fare una spiegazione infinita di tutti questi dettagli ma dovrei farlo guardandomi vari cioè dandomi una guardata agli appunti e così via quindi non lo so io sarei anche a posto se avete delle domande più specifiche oh guardiamo l'ultima slide facciamo l'ultima slide che è molto carina che è la citazione finale filosofical reasoning should not form a chain which is no stronger than its weakest link but a cable whose fibers may be ever so slender provided that they are sufficiently numerous and intimately connected Charles Sanders Peirce allora questa citazione di Peirce l'ho messa alla fine perché ricapitola bene l'approccio argomentativo di Clark e quindi anche mio lui dice il ragionamento filosofico non deve formare una catena che è forte semplicemente quanto il suo anello più debole ma il ragionamento filosofico deve produrre è caratterizzato da un cavo da un cavo le cui fibre sono intrecciate e l'importante anche se c'è una fibra di queste che è debole l'importante è che ci siano numerose fibre intrecciate tra loro e che siano intimamente connesse per cui questa è la strategia argomentativa dell'extended view di Clark e anche in particolare della mia tesi nel senso che noi potremmo individuare anche magari alcuni di questi criteri con cui noi andiamo a supportare l'extended view possono essere deboli possono essere non sufficientemente forti ma presi nel loro insieme presi nel loro complesso forniscono delle ragioni sufficienti per attribuire in alcuni casi molto rari un caso di genuina condizione stesa magari in molti altri casi dovremmo semplicemente accontentarci dell'embedded cognition dell'embedded view che è sufficiente sui meno esplicativo però in alcuni casi come ad esempio il caso della sensor institution device beh quello è un caso forte di extended cognition è un caso che non è spiegabile non è riducibile è un caso di embedded cognition questa frase di Peirce Peirce la prende ovviamente criticando Cartesio no? Peirce con questa con questa citazione lui voleva rappresentare il suo modo di fare filosofia contrapponendola a quello di Cartesio perché? perché Cartesio cercava invece di divindare appunto una catena lo dice il ragionamento filosofico non deve formare una catena cosa che invece faceva Cartesio Cartesio intendeva il ragionamento filosofico come una catena di deduzioni da principi primi no? deduco tutto quanto dalla meditazione metafisica appunto deduco ad esempio che appunto posso fidarmi di Dio il mondo esiste e così via però se uno legge le meditazioni metafisiche di Cartesio in cui Cartesio cerca di applicare questa catena filosofica del ragionamento questa catena deduttiva dice Peirce basta individuare un singolo anello della catena e tutto il ragionamento crolla ok? e vabbè il ragionamento di Cartesio ha voglia di anelli deboli e siamo pieni cosa è figo? è figo il fatto che cazzo ma senza cuffiette faccio molto meno fatica vabbè è figo il fatto che ok quindi Peirce critica Cartesio perché Cartesio ha la catena del ragionamento e mentre invece Peirce dice no la mia filosofia non è basata su una catena è basata su una convergenza di argomenti ok? una convergenza di argomenti che tutti insieme portano a un risultato convergente se anche uno di questi argomenti preso da solo è debole non importa non è come nel caso della catena in cui basta un anello debole e tutto si distrugge tanti anelli tanti fibre intrecciate tra loro comunque formano un argomento abbastanza forte la stessa è la posizione di Clark cioè non c'è un singolo criterio ecco perso la luce non c'è un singolo criterio con cui noi portiamo e concludiamo a favore dell'extended view ma sono tanti ragionamenti convergenti che ci portano a concludere questo e così come quindi Clark in un certo senso in questo dibattito sulla filosofia finalmente estesa rispecchia la strategia argomentativa di Peirce in un certo senso Adams e Aizawa io dico rispecchia in un certo senso la strategia argomentativa di Cartesio per cui il loro ragionamento che si vuole basare su un marchio del cognitivo che quindi vuole dare condizioni necessarie e sufficienti della cognizione individuando appunto una stringente catena di ragionamenti in realtà finisce per essere più fragile di una posizione più flessibile come quella di Clark che è basata sul matrix of cognition account ok concludo no direi che concludo così concludo così se avete domande bene con questa ok se non ci sono domande concludo qui la live e tutto 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 vi racconto qualche aneddoto non lo so non me lo state chiedendo ma me lo invento io cioè nel senso che la mia definizione di processi cognitivi me l'ha fatta fare la mia mentor in America sono arrivati in America a settembre al Wasser College nel Dipartimento di Scienze Cognitive e c'era questa mia mentor la professoressa professoressa Gwen Broad professoressa di Scienze Cognitive esperta sull'evoluzione umana e mi ha detto guarda che tu per completare questa tesi dovresti dare una definizione di cognizione dare una definizione è facile è facile dare una definizione di cognizione quindi lei mi ha spinto in questa direzione e poi è stato molto bello confrontarmi con lei tra l'altro lei appunto le Scienze Cognitive sono una disciplina multidisciplinare però lei comunque era molto esperta nel dibattito filosofico di Clark in particolare anche delle opere di Clark ed è stato bello confrontarmi con lei ci siamo anche divertiti molto ridevamo scherzavamo e cosa volevo dire ah sì è stata anche molto carina perché quando sono tornato a casa mi ha scritto una mail molto carina dicendomi ah Guido è stato un piacere conoscerti e mi ha ispirato il prossimo corso che faccio perché lei insegna appunto a livello undergraduate ma mi ha ispirato il prossimo corso il prossimo corso lo faccio sui temi della tua tesi e voglio usare il libro di Clark come un libro per il materiale del corso quindi grazie così è stata carinissima è stato bellissimo anche dal punto di vista umano appunto incontrare una persona con cui confrontarsi ancora adesso ci sentiamo lei mi manda dei paper io gli mando non sto scrivendo un paper le mando un paper insomma ci sentiamo ci confrontiamo è un bel rapporto e e questo tipo di rapporto mi ha fatto dire cavolo la ricerca è la mia strada cioè quando trovi una persona con cui c'è un'intesa sul piano intellettuale sul piano filosofico sono quei momenti che rendono una vita dedicata alla ricerca degna di essere vissuta no quella condivisione di quella passione di quella passione appunto per la conoscenza per imparare per capire come funziona la mente e così via è stato veramente una cosa bellissima infatti le ho scritto che 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 secondo me questi momenti appunto sono quelli che rendono la vita di ricerca una vita dedicata allo studio o di essere vissuti perché altrimenti insomma io ho vissuto una vita molto solitaria dedicandomi allo studio e questi momenti di condivisione fanno bene quindi sia condivisione con altre persone con professore come la mia la mia mentor condivisione con Dennett che se avete visto il video bene se no recuperatelo è stato uno dei momenti più pazzeschi e anche condivisione con voi nel senso che mi fa piacere condividere con voi questi miei studi e chiaramente sarebbe più bello dal vivo però si fa come si può e sono stato un po' molto poco attivo l'ultimo anno sul canale per vari motivi perché non volevo cadere in burnout non volevo cadere in burnout fare troppe cose contemporaneamente perché il mio metodo di studio è cambiato radicalmente prima leggevo molti saggi di argomento diverso questo mi permetteva di fare molti video di argomento vario e diversificato qui è da un anno che studio sta roba e quindi insomma potevo anche farlo un video sulla mente stesa ma hai voglia fai un video poi basta non è che fai due tre quattro e comunque mi rendo anche conto che la discussione la presentazione youtubica o twitchara come si voglia comunque in live di questi argomenti non è mai esaustiva perché come dicevo le sfumature di significato sono talmente leggere talmente lievi che il parlato così a ruota libera non permette di coglierle non permette di coglierle le differenze e quindi di sviscerare veramente le questioni di rimenti del dibattito per cui ho cercato di farvi una presentazione sicuramente lacunosa sicuramente imperfetta però consapevole dei limiti della piattaforma e dei limiti miei umani nell'esplorare queste questioni queste conoscenze allora buonasera come si pone se si pone la torre della mente stessa sul problema di cosa si prova ad essere un pipistrello di Nagel allora interessante la posizione di Nagel è una posizione in un certo senso antifunzionalista non necessariamente allora la posizione di Nagel è che esistono esistono delle proprietà mentali che sono appunto le proprietà fenomenologiche quello che noi facciamo esperienza a cui noi abbiamo un accesso diretto immediato ontologicamente primario direbbe CERN che non è riducibile da un punto di vista della spiegazione scientifica perché la spiegazione scientifica è intersoggettiva usa criteri intersoggettivi intersoggettivamente in parte verificabili ma sicuramente intersoggettivamente diciamo così formulabili quindi che cosa si prova a essere un pipistrello una sedia un bastone una mosca un essere umano non lo possiamo veramente lo può provare solo l'entità stessa che prova quella sensazione per cui ha a che fare col quale e con la coscienza come si connette quindi con la teoria della mente stesa si connette in parte nel senso che come abbiamo detto la teoria della mente stesa quasi pochissimi autori sostengono la posizione della coscienza estesa e quindi semplicemente quindi applicando la posizione di Nagel alla posizione della mente estesa possiamo dire che cosa si prova a essere una mente ibrida estesa che cosa si prova a essere otto che usa un tacquino la cosa interessante è che se anche questo è importante cioè l'aspetto fenomenologico ok l'aspetto fenomenologico quindi come noi facciamo esperienza della nostra integrazione col dispositivo esterno anche se gli autori non sostengono che la coscienza si possa estendere ovvero che le basi materiali della coscienza siano ibride quindi quando parlo di coscienza estesa intendo questo intendo che le basi materiali si parla di supervenience base o di realization base la supervenience base della coscienza è ibrida quindi realizzata sia da componenti cerebrali che da componenti esterne si parla quindi di esternalismo o di coscienza appunto di veicoli ibridi sto dicendo le stesse cose in mille modi diversi comunque il concetto è quello ora appunto i teorici estesi dicono che la natura della coscienza per il suo alto grado di integrazione delle informazioni ha un livello di integrazione temporale così elevato che personatura secondo Clark Chalmers non può essere estesa ovvero il contributo esterno può semplicemente contribuire a dare un'assumatura allo stato di coscienza in un particolare modo ma non costituisce il processo stesso si torna sempre qui il rapporto tra costituzione quindi se anche la coscienza non si estende quindi non ha una base di realizzazione ibrida la componente esterna può comunque influenzare il nostro stato di coscienza può comunque dare una sfumatura fenomenologica diversa al nostro stato di coscienza per cui sicuramente essere un agente cognitivo ibrido può essere diverso su piano fenomenologico da essere un agente cognitivo non ibrido per cui possiamo chiederci invece che cosa si prova a essere un ripistrello utilizzando la terminologia di Clark possiamo chiederci che cosa si prova a essere un cyborg quindi cosa si prova a essere un agente cognitivo ibrido in cui il cui cervello magari ecco magari il cui cervello è realizzato da il cui cervello è integrato a un dispositivo a un device che congiuntamente ai processi cerebrali realizza la coscienza non lo sappiamo non sappiamo che cosa si prova a essere un cyborg se lo deve dire il cyborg stesso questo quindi il piano fenomenologico è interessante perché da una parte il funzionalismo spesso viene considerato inadeguato a spiegare la componente fenomenologica degli stati mentali perché perché se consideriamo gli stati mentali come una individuazione di un ruolo causale e funzionale lo stato fenomenologico di per sé sembra non avere un ruolo funzionale ok questo considerando il funzionalismo classico il funzionalismo cosiddetto funzionalismo tooling machine functionalism però altre varietà di funzionalismo potrebbero invece accettare che la coscienza magari è un sottoprodotto evoluzionistico e quindi non per forza qualcosa non spiegabile in termini funzionalistici ma come qualcosa di integrato allo stato funzionale dello stato mentale particolare forse un po' farmeticato non lo so volevo dire che ok chiudiamo questo discorso un attimo abbiamo parlato di trasparenza fenomenologica quindi la coscienza comunque svolge un ruolo importante nella teoria della mente stesa della connessione stesa perché il modo con cui noi abbiamo accesso cosciente personale al mondo può essere appunto mediato dalla risorsa esterna come dicevo appunto io accedo al mondo attraverso le mie lenti a contatto non ho coscienza delle mie lenti a contatto ma sicuramente le mie lenti a contatto contribuiscono alla mia percezione e il modo in cui percepisco influenza i miei stati di coscienza quindi sicuramente le mie lenti a contatto stanno contribuendo a un particolare feeling percettivo che io ho adesso la questione è quanto contribuiscono e in che modo può essere un contributo marginale può essere un contributo fondamentale se invece appunto stiamo parlando di un dispositivo integrato al cervello che contribuisce attivamente alla realizzazione dei miei stati di coscienza dipende quindi che cosa si prova ad essere un cyborg dipende dal tipo di cyborg che stiamo considerando dipende da tante cose spero di essere stato chiaro mi sento tremendamente confusionario nelle mie risposte però veramente vi ringrazio per le numerose domande che si sono state durante la serata grazie mille avete reso la live più accattivante e più appunto un dialogo che è semplicemente un monologo quindi vi ringrazio molto basta finire qui potete recuperare la live indifferita grazie di tutto ci vediamo al prossimo video alla prossima live ciao 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 Grazie a tutti